Prima che Andrea ce lo imponga. Bene, penso che possiamo quindi dare inizio a questa sessione, con un vero piacere di incontrare dopo tanto tempo tanti amici. Ringrazio Andrea per l'invito a questa moderazione interessantissima. Il momento è ormai diventato un classico direi, pur essendo la storia della preimpianta abbastanza recente. Passo volentieri il compito di Andrea all'autoressa Savina Di Presa, che ci dirà cosa Andrea illustrerà in questa bellissima presentazione sicuramente. Buongiorno a tutti, grazie Andrea e grazie a Giovanni Coticchio per aver organizzato questo bellissimo symposium. Il topic di questa sessione è certamente molto stimolante, quindi parliamo di test genetici preimpianto per ricerca a neoploidie. Non vedo l'ora di ascoltare le presentazioni dei nostri tre relatori, che sono sempre molto critici e molto stimolanti. Allora ascoltiamo il dottor Burini. Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti. Perché parlare dei trend internazionali e dei risultati globali? Essenzialmente perché capire che cosa si fa nel mondo e quanto una tecnica, un fenomeno sia replicato nel mondo e su più centri, ovviamente, lo sappiamo tutti, ha senso, è importante saperlo, è importante capire che cosa succede, anche perché in Italia, poi ne parleremo dopo, c'è una situazione un pochettino differente. I punti della relazione sono, un pochettino brevemente, dallo sviluppo alla diffusione dello studio delle neoploidie, quali sono le indicazioni, i vantaggi, appunto i risultati e un pochino di prospettive future, perché poi le prospettive future Antonio ne parlerà successivamente. L'analisi delle neoploidie è stata, diciamo, viene utilizzata ed è stata pensata per evitare di trasferire le embryoni anomali cormonosimicamente a causa appunto delle neoploidie, avete visto che si possono formare di nuovo. Non è necessario un work-up preliminare, quindi a differenza della single gene non c'è bisogno di fare un work-up preliminare. Il test genetico è identico per tutte le coppie, solitamente è consigliato alle coppie infertili, intese come le coppie che non riescono ad avere figli e le coppie che riescono a rimanere gravide, ma non hanno la gravidanza. Perché lo studio delle neoploidie? Perché l'incidenza delle neoploidie, lo sappiamo, siamo una specie poco fertile e questo è legato al fatto che produciamo soprattutto embrioni che hanno alterazioni cromosomiche. Quindi dal punto di vista della possibilità dei risultati, mentre è accettato da tutte le coppie provare più mesi, fino al famoso anno, anno e mezzo, il tentativo di avere una gravidanza avendo rapporti, perché continua ad essere una cosa piacevole, diventa difficile invece fare più fecondazioni assistite. Quindi uno dei grandi problemi che abbiamo quando dobbiamo spiegare alle coppie, quando facciamo un counseling, del motivo per cui facciamo transi ad embrioni e che diciamo belli, 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 morfologicamente belli, tutto quanto, ma poi non c'è la gravidanza, è quello ovviamente che i pazienti, non avendo studiato biologia come tutti noi, non sanno esattamente che pur essendo bello un embrione, se ha un'alterazione cromosomica non crescerà. E se vedete le incidenze, le incidenze sono ben alte e quindi la possibilità di andarle a valutare è qualcosa che ci aiuta nel migliorare su quel ciclo la possibilità, oserei dire, di evitare che il paziente smetta di fare trattamenti. Poi ve lo spiegherò. Questo è il timeline, cioè le prime biopsie sulle embrioni per la selezione del sesso del tiro degli anni 60, sugli animali ovviamente. E arriviamo fino al 94, quando dopo aver utilizzato la fischia su alcuni cromosomi viene utilizzato sul blastomero l'intera sequenza del genoma. Queste sono le varie biopsie, anche se oggi sono meno utilizzate, perché quasi sempre viene utilizzata la biopsia della trofectoderma, quindi alla quinta, sesta giornata. Questa è una review di qualche tempo fa, dove Ramualdo, appunto nella parte finale, nella discussione finale, dice che in questo momento il golden standard della PGD e della PGTA è farlo sul trofoblasto e l'altra cosa è che aumenta i risultati della fecondazione assistita o almeno diminuisce il time to pregnancy. E su questo sapete che c'è grande discussione, probabilmente in discussione ne parleremo. Quali sono le indicazioni? Facile, l'avanzata età materna, sappiamo che le donne nella loro età riproduttiva per biologia hanno con l'aumentare degli anni un'aumentata possibilità di avere ovociti con alterazioni cromosomiche, quindi più aumenta l'età, più aumenta la probabilità di avere embrioni che avranno una neoploidia e quindi in quel caso andare a studiare aiuta a selezionare gli embrioni. Nei pazienti con un ricorrente impianto, rifallimento dell'impianto, nel ricorrente pregnancy loss e ultimamente anche nelle coppie che hanno un fattore maschile severo perché sempre più viene evidenziato che nei fattori severi maschili è vero che con la X riusciamo a ottenere bambini quando prima non se ne poteva neanche parlare, ma è aumentata la possibilità di avere alterazioni, quindi alterazioni cromosomiche. Quali sono i vantaggi? Qui li ho elencati, un aumento dell'implantation rate, questa è abbastanza facile capirla, se escludiamo gli embrioni che smetteranno di crescere quasi sicuramente è facile avere un aumento dell'implantation rate, una riduzione degli aborti per lo stesso motivo al contrario e una riduzione delle gravidanze con patologie cromosomiche, questo va ben discusso perché ovviamente questo è il punto quando durante il counseling si parla di diagnosi sugli embrioni la mente dei pazienti va immediatamente al fatto di fare una sorta di ammiocentesi e quindi di evitare quelle problematiche di cui tutti i pazienti hanno paura. In realtà non è, lo sappiamo, una vera e propria ammiocentesi e non ci dà quella possibilità di escludere tutte le trisomie che sono compatibili con la vita. L'altra cosa importantissima è che ovviamente chiunque faccia il singolo embiotransfer se trasferisce un embrione solo perché è bello morfologicamente o trasferisce un embrione dopo di anni di superimpianto ha una maggiore possibilità di trasferire un embrione solo avendo risultati più alti. E la cosa più importante penso che sia la riduzione del time to pregnancy perché se riduciamo i mesi in cui trasferiamo blastocisti solo belle dal punto di vista morfologico è evidente che miglioriamo anche il momento in cui i pazienti riusciranno a ottenere la gravidanza. Ho preso questa roadmap fatta da Danilo qualche anno fa non perché voglio dirvi tutte le tappe di quello che è stato il percorso dello sviluppo della diagnosi sugli embrioni ma perché mi sembra che la cosa molto importante sia quello di aver messo che nel 94 come spesso avviene, come fortunatamente è avvenuto nel nostro mondo, cioè nel mondo della scienza dopo i primi risultati sporadici e dopo che le metodiche vengono replicate ci si chiede facciamo un data report ed è quello di cui vi devo parlare il data report, questi sono i registri internazionali partirei da quello italiano che è quello che ci vede ovviamente maggiormente interessati e vedete qual è se vogliamo la prima evidente anomalia cioè la diagnosi genetica preimpiantos per le aneoploidie viene fatta soprattutto nei centri privati viene fatto pochissimo nei centri pubblici e questo lo sappiamo è legato al fatto che non è previsto e quindi non essendo previsto dal DRG o dai LEA forse speriamo sarà previsto ma al momento non è previsto è evidente che è un qualcosa che non può essere fatto e la maggior parte dei cicli riportati vedete sono complessivamente 3.200 cicli non sono pochi ma non sono neanche tantissimi sui più di 80.000 cicli che facciamo all'anno e il 93, quasi 94% viene fatto su cicli a fresco quindi la biopsia viene fatta su cicli a fresco le indagini effettuate vedete che sono 2.400 i trasferimenti il 1.890 per farla breve i bambini, i parti con almeno un nato vivo sono 692 che sono l'81% delle gravidanze ottenute che a loro volta sono il 45% dei trasferimenti questo per meglio vederlo come schema e vedete che è evidente che dai cicli che vengono fatti c'è una diminuzione delle performance di bambini che nascono qui parliamo invece del PGT Consortium questo è stato pubblicato su Human Reproduction sono 61 membri del consortium 54 sono in Europa sono più di 9.500 analisi genetiche fatte nel 2016 al 2017 di queste il 46% di anni per le neoploidie che vedete è il 63% di tutte le metodiche fatte brevemente sono quasi tutte X il 97% sono X l'87% vengono fatte su blastocisti quindi è la metodica ormai super utilizzata e come vedete viene fatta la whole genomic amplification quindi il 93% è fatto con questa nuova metodica se andiamo a vedere quali sono i risultati vedete che nonostante tutto solamente il 97% degli embrioni a una diagnosi dopo il trattamento o meglio soltanto nel senso che non abbiamo la certezza di avere il 100% degli embrioni con una diagnosi di questo 97% ne abbiamo il 62% avevano aneoploidie il 34% solamente eoploidie e un 4% è considerato mosaico se guardiamo le cose utili vedete che nell'88% sono stati fatti il single embryo transfer che penso sia la cosa più importante di questi il 60% ha avuto un beta HCC positivo il 52% era considerato una gravidanza clinica e il 39% era una gravidanza che era andata avanti oltre le 12 settimane i bambini nati 1084 brevemente che cosa accade nei paesi che forse lo utilizzano di più quindi Regno Unito e Stati Uniti questo è Regno Unito vedete che su i cicli sono tanti negli Stati Uniti dal 2004 al 2016 sono stati fatti quasi mezzo milione di trattamenti di fecondazione in vitro e quasi 95.000 cicli con la PGT i risultati li vedete sono praticamente mentre nel 2014 c'erano più cicli con gravidanze fatte su fresco oggi le gravidanze sono soprattutto sugli embrioni congelati proprio perché le embrioni vengono il blastocisti vengono bioptizzate congelate e trasferite successivamente sia quello lì erano i dati degli UK e questi sono i dati degli Stati Uniti e vedete che anche in questo caso se guardiamo per retrivo la gravidanza le procedure di gravidanza non sono tanto differenti come è logico ci metteranno più tempo probabilmente questi da trasferire se guardiamo invece sugli scongelamenti vedete che sull'embrotransfer vedete che la percentuale con la PGT ha una percentuale più alta stessa cosa se guardiamo ad esempio il 2017 vedete che se noi prendiamo il retrieval le percentuali anche divise per fasce di età non cambiano tantissimo se andiamo a vedere invece il retrieval ma con anche i cicli da scongelamento vedete che le PGT hanno sempre tranne che nelle donne giovani sotto i 35 anni una percentuale per ciclo più alto qui questo è il registro dell'America Latina in questo caso 140 centri su 191 centri hanno riportato cicli fatti più di 8.000 casi fatti con la diagnosi preimpianto e semplicemente volevo farvi vedere che quello che loro trovano è che se noi facciamo una riguardo alla miscarriage rate se prendiamo donna di sotto dei 35 anni non c'è miglioramento nel fare transfer con o senza PGT ma abbastanza logico mentre invece c'è un grande miglioramento per quello che riguarda le fasce d'età sopra ai 39 anni questo è il diciamo il registro mondiale quindi con tutti i risultati ottenuti parliamo del 2012 è appena uscito il 2013 ma vi parlo nel dettaglio del 2012 vedete sono più di 18.000 casi fatti e la fanno da padrone l'Europa e il Nord America con numeri che sono fortemente in crescita questo è la la diapositiva che ci spiega che il numero appunto della delle PGT sono state più il 35% quindi i cicli che aumentano sensibilmente negli anni e le percentuali di gravidanza sono della 41% e di parti della 23% quasi questo appunto è quello del 2013 ma non volevo tediarvi con con dati che sono più o meno uguali quindi questi sono i risultati quali sono i trends ovviamente si è in aumento il numero di cicli che vengono fatti è in aumento diciamo l'affidabilità e la capacità di produrre di produrre risultati e di di dare gravidanze quello che si sta cercando di fare è quello di trovare soluzioni che siano meno invasivi possibili mi riferisco ovviamente alla biopsia sull'embrione di questo ne parlerà Antonio nella relazione che vi porterà questa mattina volevo solo elencarveli si parla di blastocentesi di valutazione della dell'assetto cromosomico utilizzando il terreno di cultura dove le blastocisti vengono tenuti in cultura appunto di fare una biopsia sulla morula e addirittura ultimamente utilizzare blastocisti ottenuti in vivo quindi avendo rapporti facendo un lavaggio della cavità uterina recuperando gli embrioni per poter fare PGTA anche a quelle coppie che fanno i figli spontaneamente capisco che sia in questo momento un qualcosa che tutti pensiamo e addirittura però come tutte le metodiche come tutte le cose nuove che noi abbiamo vissuto in questi anni potenzialmente può essere una nuova esigenza anche per quei pazienti che non hanno bisogno di fare una fecondazione in vitro e non vogliono fare una fecondazione in vitro per fare una diagnosi sugli embrioni che tenete conto che ovviamente questo sarà potenzialmente il futuro se mai io probabilmente non so se ce la farò ma molti di voi che sono giovani ce la faranno è abbastanza facile pensare che avremo capacità di fare terapia genica sugli embrioni quindi immagino che la stragrande maggioranza dei vostri figli penserà che per fare un figlio sia meglio analizzare un embrione eventualmente curarlo geneticamente piuttosto che banalmente avere rapporti e vedere che cosa succede però questo non lo possiamo sapere questi sono quello che è stato fatto fino adesso e quindi le metodiche tradizionali sia sui sui globuli polari sui blastomeri e sulla e sul trofecchetto derma e questi sono quelli di cui parlerà poi immagino Antonio questi sono alcuni lavori che riportano quanto pur utilizzando pur e non utilizzando cellule del trofecchetto derma si riesce ad avere una diagnosi che è similare a quella delle cellule col trofecchetto derma questi sono tutti i lavori in tal senso ma non voglio tediarvi questo invece è il lavoro appunto che Mounnet ha pubblicato anno scorso di diagnosi fatte su embrioni ottenuti da lavaggio della cavità uterina quindi da donne che avevano fatto vabbè un'inseminazione intrauterina ma immagino che questa cosa possa essere fatta anche per coppie che hanno rapporti normalmente vi ringrazio grazie Andrea complimenti per la presentazione adesso andiamo avanti con il secondo relatore lasciamo le domande alla fine della sessione e allora invitiamo la dottoressa Rienzi in streaming buongiorno a tutti ci senti Laura ciao buongiorno sento benissimo io chiedo scusa innanzitutto ringrazio Andrea che come sempre non solo per l'invito ma anche per avermi aiutato in questo momento che ho mio marito che ha fatto un piccolissimo intervento ortopedico niente di grave ma sono dovuta rimanere a Roma mi dispiace tantissimo non solo per l'evento scientifico ma anche per l'evento sociale mi ha perso per la prima volta negli ultimi non so dieci anni questo bellissimo evento però sono comunque felice di essere qui a distanza grazie Laura allora ti ascoltiamo mi sentite? sì avete sentito quello che ho detto? sì sì tutto tutto ok perfetto grazie è sempre difficile a distanza comunque vi parlerò di diagnosi genetica preimpianto per la ricerca di aneuploidie nei casi di età materna avanzata devo dire che Andrea ha già anticipato moltissimo e mi ha facilitato il compito questi sono i miei potenziali conflitti di interesse che nulla legato a questa presentazione allora volevo raccontarvi la storia della diagnosi preimpianto e capire qual è lo scopo di questa procedura lo scopo è quello di analizzare il DNA di ovociti fecondati embrioni o blastocisti per identificare un'anomalia di tipo genetica o cromosomica è un test non è una terapia come ha detto Andrea ad oggi non siamo in grado poi di riparare l'eventuale anomalia che andiamo ad identificare e quindi va considerata come una diagnosi prenatale molto precoce con dei limiti che andremo a vedere perché ovviamente andiamo a studiare delle cellule che sono per esempio nella biopsia della blastocisti delle cellule del troffetto derma che possono essere leggermente diverse rispetto alle cellule embrionali veri e proprie la storia della diagnosi preimpianto è una storia che non sorprende in scienza cioè le tette che vanno validate vanno raffinate vanno capite si è partito con la biopsia del blastomero per arrivare alla biopsia del troffetto derma dei corpi polari quindi sia da un punto di vista embriologico che da un punto di vista genetico sono stati fatti passi da gigante per cercare di raggiungere la tecnica che sia il meno invasivo possibile per l'embrione e il più affidabile possibile per il laboratorio di genetica e come già ha detto Andrea non ci fermiamo qui in scienza le tecniche evolvono così come la genetica evolve velocissimamente anche l'embriologia ci sta mettendo del suo per addirittura arrivare in modo prospettico a una tecnica poi vedremo se Antonio ci dirà che questo è già possibile o no del tutto non invasiva per l'embrione perché più è semplice la tecnica meno richiede expertise più meno è invasiva per l'embrione più può essere standardizzata riproducibile accessibile per i pazienti ecco perché anche se abbiamo raggiunto un gold standard continuiamo a lavorare per rendere ancora più facile l'attuazione di questa di questa tecnica proprio per l'importanza che ricopre in determinate popolazioni dei pazienti quindi è necessario per tutti i pazienti è probabilmente non per tutti ad oggi ma soprattutto richiede un expertise che non è per tutte le cliniche non tutti hanno diciamo sia il personale sia la tecnologia sia la multidisciplinarità necessaria per attuare questa tecnica pensate che in Francia ci vuole un permesso speciale per fare la diagnosi per impianto a prescindere di loro la fanno solo per la monogenica e la cromosomica perché proprio perché sono necessari degli step addizionali rispetto a una normale fecondazione assistita e quindi richiede un training e strumenti diversi allora il primo statement che vorrei fare è che è un test diagnostico noi possiamo solo osservare una mutazione non la possiamo correggere e questo test fa parte diciamo di una visione più complessa dell'embrione l'embrione non è soltanto 46 cromosomi ma l'embrione deve essere vitale deve essere in grado di moltiplicare le proprie cellule differenziarsi raggiungere lo stato di bestocisti deve essere competente da un punto di vista genetico che non vuol dire solo una vera nucleoidee ma vuol dire anche molto di più parlando non solo del genoma nucleare ma anche deve avere l'energia sufficiente che gli viene invece dato dal DNA mitocondriale ne sappiamo pochissimo ma sicuramente è un enorme puzzle che non ha una sola risposta ma è la combinazione di diversi biomarkers che ci possono dare un'idea completa della competenza dell'embrione quindi il test genetico preimpianto si configura uno degli step nella valutazione dell'embrione umano e per la diagnosi genetica preimpianto lo abbiamo visto dobbiamo oggi raggiungere lo stato di bestocisti perché il goal standard ad oggi per la valutazione delle aneoploidie embrunali è fare la biopsia allo stadio di bestocisti perché dobbiamo prelevare le cellule del trofectoderma e questo è un primo step che soprattutto nella popolazione d'età materna avanzata preoccupa moltissimo il centro di PMA perché si sa benissimo che non tutti gli ovociti si feconderanno e non tutti gli ovociti fecondati raggiungono lo stato di bestocisti e si è stimato che da 10 ovociti 7 si fecondano 4 diventano bestocisti nell'età in una popolazione ideale di pazienti nella popolazione con età materna avanzata questo numero scende a 3 e scende ancora nei fattori severi di infettità maschile perché ovviamente la fecondazione diminuisce drammaticamente e quindi da 10 ovociti nei severi fattori di infettità maschile si possono avere 2-3 plastocisti e allora già questo blocca molti centri ma se ho solo due ovociti andare a plastocisti potrebbe compromettere il transfer cioè potrei non ottenere nessun embrione allora la prima risposta da dire è che noi dobbiamo andare a plastocisti perché la plastocisi ci dice è forse uno dei biomarker più importanti nell'identificare la qualità di un embrione perché non solo ci dice che l'embrione è sopravvissuto ma ci dice anche che l'embrione è stato in grado di differenziare le sue cellule in inesalmas e troffetto derma e quindi è fondamentale ovviamente è un passo fondamentale per ottenere una gravidanza allora raggiungere lo stadio di plastocisti lo abbiamo visto in diversi studi anche una cocrane review basata su una popolazione di pazienti a buona prognosi beh già andare fino a plastocisti ci permette di predire molto bene l'impianto addirittura arriviamo al 37.2% di nato vivo per singolo embrione trasferito quindi una popolazione giovane direi che possiamo veramente andare al singolo embiotransfer con un'ottima possibilità per i pazienti e proprio perché siamo in grado di identificare l'embrione con più alta potenzialità di impianto ma nella popolazione di età materna avanzata questo dato scende drammaticamente e arriviamo in uno studio pubblicato da Filippo qualche anno fa il 10% di nato vivo per plastocisti trasferita e allora qual è la differenza se siamo andati tutte e due le volte a plastocisti ma in un caso abbiamo quasi il 40% di successo nell'altro il 10% è proprio perché è cambiata la costituzione cromosomica della plastocisti sono belle tutte e due uguali ma una balla di più e l'altra balla di meno e non ci sono dubbi non ci sono dibattiti in letteratura purtroppo l'età materna è legata a come diciamo come scudo protettivo per la donna il fatto che si accumulano aneoploidie negli embrioni che derivano da ovociti con donne con età superiore a 35 anni e questo diciamo questo tasso di aneoploidia aumenta in modo esponenziale dopo i 35 anni così come diminuisce la fertilità femminile in vivo così come aumenta in modo drammatico l'aborto nella popolazione in età materna avanzata perché l'aborto è molto spesso legato proprio alla costituzione cromosomica qui nella domanda di Andrea PGTA in età materna avanzata sicuramente sì è un test diagnostico cerchiamo un dato genetico che è associato alla nostra popolazione in età materna avanzata quindi l'indicazione c'è e vediamo adesso se la tecnica c'è allora perché andare a blastocisti in ogni caso ma perché la blastocisti è uno step indipendente necessario che l'embrione faccia per essere utile alla coppia questo è uno dei pochissimi studi che è andato ad analizzare il tasso di aneuploidia in embrioni arrestati in questo caso nella barra blu andava a vedere il tasso di aneuploidia in embrioni arrestati da ovociti freschi e nella barra blu più chiara embrioni arrestati in erano ovociti vitrificati o ovociti freschi scusate il contrario blu scuro e blu chiaro e prendo questo studio perché è l'unico come vi dicevo che ha visto il tasso di aneuploidia nelle embrioni arrestati e pensate solo il 36% quindi nel 64% gli embrioni si arrestano non perché hanno aneuploidia ma perché hanno mille diversi problemi che non gli permettono di avere quella competenza per il differenziamento e quindi la blastocisti è lo step 1 inutile andare a fare test complessi in un embrione che si arresta comunque a prescindere dalla sua costituzione cromosomica chi arriva a blastocisti in questo studio usable blastocyst ha un tasso di aneuploidia più basso ma ancora ci sono embrioni neoploidi che non raggiungono lo stato di blastocisti e ahimè embrioni neoploidi che raggiungono lo stato di blastocisti quindi le due cose sono indipendenti adesso noi sappiamo benissimo che le aneuploidie possono essere generate o da un problema meiotico allora in quel caso tutte le cellule da blastocisti avranno lo stesso carotipo oppure può essere generato da un problema mitotico cioè le cellule quando fanno delle mitosi fanno uno sbaglio nella serenazione cromosomica e il risultato è quello che si chiama mosaicismo abbiamo due o più linee cellulari con carotipo diverso ecco allora il mosaicismo esiste nella specie umana non ci sono dubbi ma non è legato a nessuna delle indicazioni che noi trattiamo quando facciamo PMA né all'età materna avanzata né ai fattori di infertilità e neanche alla riserva ovarica quindi è qualcosa di costitutivo è qualcosa che riguarda tutta la popolazione e anche nei concepimenti spontanei allora dobbiamo capire non c'è indicazione quindi non siamo in una popolazione ad aumentato rischio di mosaicismo inoltre qual è il reale rischio che noi dobbiamo descrivere alla coppia qui in questo studio ci fa vedere chiaramente che il rischio di true mosaic cioè che il bambino nasce realmente con mosaicismo è dello 0,3-0,4% indipendentemente dal suo stato di fertilità e indipendentemente dal modo in cui concepisce ecco quindi il mosaicismo è un processo naturale che avviene equamente in tutte le popolazioni di pazienti e che quindi va considerato come un rischio fisiologico perché non lo dovremo andare a testare e adesso ve lo spiego perché rischiamo di introdurre falsi positivi e di perderci embrioni utili alla coppia quindi il secondo statement che vorrei dire è che noi in età materna avanzata quello che dobbiamo ricercare sono gli errori meiotici quelli che vanno a compromettere tutta la popolazione che costituisce l'embrione e quando si vanno in questo bellissimo studio multicentro prospettico di non selezione a trasferire embrioni plastocisti testate senza considerare i livelli di mosaicismo abbiamo e sono gli embrioni diciamo blu chiaro oggi o problemi di colori abbiamo un tasso di nati vivi del 65% in questo studio 71% di gravidanza 7% di aborto quando andiamo a trasferire embrioni che sono stati testati come neoploidi in questo studio erano studi di non selezione che andavano indifferentemente trasferiti eoploidi a neoploidi non solo non abbiamo 0% di gravidanza abbiamo 24% di gravidanza perché alcuni neoploidi ai miei sono compatibili con l'impianto e con la gravidanza ma 100% di miscarriage di aborto con 0% di nati vivi in questo studio quindi è molto importante capire qual è lo scopo qual è l'indicazione l'indicazione se non andiamo più di emeiotiche e quanto è il rischio di introdurre altri tipi di diagnosi che possono compromettere il nostro tasso di falso positivo e falso negativo quindi questo studio fa vedere veramente la potenza di questa tecnica la potenza clinica potenza clinica cioè combinare lo sviluppo a blastocisti più l'eucloidia ci permette di ottenere un tasso di nato vivo per l'imbione trasferito impensabile pochi anni fa e questo trasversalmente in tutte le popolazioni di pazienti intorno al 50% nelle popolazioni diciamo che ci interessano quelle infettili severa fattore maschile o età materna avanzata ancora più alta addirittura nelle pazienti a buona prognosi quindi un test diagnostico veramente molto molto powerful età materna comunque ha un'influenza anche nel transfer di eucloidia è stato visto in questo studio che non è uguale trasferire una blastocisti eucloide in una donna a buona prognosi rispetto a una donna con età materna avanzata è chiaro che rimane altissimo il potere predittivo della PGTA nell'età materna avanzata ma comunque non è uguale probabilmente ci sono tanti altri pezzi del puzzle che dobbiamo mettere insieme per poter aumentare ancora di più il nostro potere diagnostico quindi comunque l'età materna va a influire sul tasso di impianto della blastocisti eucloide ma rimane molto molto alto il nostro potere predittivo quindi in altre parole un test genetico non cambia il numero di embrioni che danno vita a un bambino che nasce in altri temi non cambia l'efficacia della tecnica non possiamo dire a una coppia se lei fa la diagnosi preimpianto avrà più chance di avere un bambino perché il bambino ce lo dà la coppia con la qualità degli ovociti e degli spermatozoi la combinazione che facciamo in laboratorio la differenza tra trasferire tutti e cento diciamo gli embrioni di una popolazione di pazienti o di applicare un test genetico o un qualunque test di selezione embrionale che andiamo a rimuovere degli embrioni che sono a rischio di generare aborti fallimenti di impianto o trisomie e mentre il numero di bambini che rimangono ovviamente sono gli stessi quindi acceleriamo il processo cerchiamo di ridurre l'esposizione della donna ad un embrione che potrebbe generare un aborto ma non ne cambiamo l'efficacia questo è molto importante nel cancer quindi quello che andiamo a dare è un'informazione genetica non stiamo cambiando le possibilità di successo che dipendono dalla natura intrinseca dei gameti che ha prodotto quella coppia allora è vero che se uno trasferisce uno a uno tutti gli embrioni di una coppia con età materna avanzata se c'è l'embrione giusto prima o poi lo si trova ma cosa stiamo cercando di evitare in quella coppia di trasferire gli embrioni inutili di perdere tempo e soprattutto come sappiamo la maggior parte degli embrioni neoploidi è quello che genera non è un bambino affetto da trisomie o molto raramente per fortuna ma soprattutto genera aborti io vi porto solo per mettere proprio luce su qual è il tasso di aborto nella popolazione in età materna avanzata questi sono i dati del 2013 li ho presi a posto nel 2013 perché poi dal 2013 in poi è stata sempre più applicata la diagnosi genetica per impianto quindi diciamo ha sporcato i dati perché all'epoca l'Istituto Superiore di Sanità non li distingueva insomma vedete che donne a 40-42 anni rimangono incinte solo nel 13% dei casi 14% dei casi hanno 41% di rischio di aborto clinico addirittura 69 delle donne con età quindi tutti noi diciamo una donna di 43 anni ha il 5% di possibilità di avere una gravidanza poi gli spieghiamo che comunque una gravidanza su due finisce un aborto clinico ecco questo è sicuramente un dato che alle donne va spiegato alle coppie va spiegato e la riduzione del tasso di aborto in età materna avanzata l'abbiamo fatto quando si applica la diagnosi genetica per impianto per le neoploid e l'abbiamo fatto vedere noi nel 2015 quindi la differenza non era quanti bambini nascevano per coppia la differenza è che il tasso di miscarriage e le gravidanze multiple diminuivano in modo significativo proprio perché aumentando il potere proiettivo si trasferisce un embrione alla volta in questa popolazione quindi arrivando solo all'ultimo punto che vorrei portarvi oggi è il fatto che le coppie devono essere informate che questa tecnica esiste perché è una scelta personale se sì o no applicare una tecnica costosa è difficile con dei rischi di falsi positivi e falsi negativi cioè le coppie devono essere informate sui pro e i contro e devono avere la possibilità di accedere al test o di non volere il test molto importante il counseling e il counseling ovviamente non solo ginecologico ma probabilmente in molti casi è necessario anche un counseling genetico soprattutto post-test in caso di positività e anche il tipo di risultato che viene dato noi in Italia non diamo né la paternità né il sesso dell'embrione ma in altri paesi ovviamente accedendo al DNA embrionale si tende a dare sempre più informazioni sul non solo sullo stato di salute ma sul potenziale bambino e questo ovviamente comporta tantissime problematiche etiche su quale bisogna riflettere quindi la PGTA nei pazienti a età materna avanzata ha sicuramente un'indicazione molto forte perché sono una donna ad altissimo rischio di fallimenti di impianto e di aborto e quindi cercare di diminuire questi due aspetti sono veramente fondamentali in una procedura di PMA per far risparmiare tempo e ovviamente anche emotività e impatto di queste tecnologie sulle coppie è importante avere un consenso informato che comprenda i pro e contro della procedura e i limiti diagnostica che ogni test ha in assoluto che sono sempre più accurati ma comunque rimane un limite diagnostico il counseling e il fatto che le donne possano essere coppie possono essere informate in modo corretto è difficile perché è multidisciplinare è un counseling che dovrebbe comprendere sia la parte in biologico per la cultura blastocisti la parte ovviamente ginecologica e la visione di insieme della coppia e probabilmente anche il gene fissa che può meglio spiegare i limiti diagnostici di ogni test che applichiamo io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti i colleghi di tutti i centri General Life in Italia e all'estero grazie siamo Laura bocca al lupo per tuo marito chiaramente penso che possiamo andare avanti lasciando discussione alla fine è veramente un piacere per invitare Antonio Capalbo a prendere la parola vorrei solo se Antonio ci dice due cose su questo sistema per il quale noi troviamo DNA fuori delle cellule dell'embrione ricordiamo per chi avesse interesse i dati di Andrade che più volte in emigra gestimentale ha ricordato che così via di cross talk di questi essosomi che raccolgono vari contenuti codi o non codi esiste anche tra i due versanti della vocita tra la parte interna del follicolo e la cosiddetta corona radiata prego Antonio grazie grazie Pino e ringrazio ovviamente Andrea, Giovanni e tutti gli amici del team di 9.bevi per l'invito e per il tempo ovviamente che passiamo insieme mi è stato chiesto di fare quindi una comparazione tra lo stato dell'arte della metodologia col standard che abbiamo visto molto bene nelle precedenti relazioni e lo sviluppo appunto di metodiche alternative sempre ovviamente finalizzate alla detection o quantomeno alla selezione embrionale basandoci su un test che vada a rivelare la presenza di anomalie cromosomiche nell'embrione questa è un po' l'agenda della presentazione dove brevissimamente ricapitolo anche io quali sono le performance del go standard ma vedrete che c'è una sovrapposizione di slide anche con Andrea e Laura che ci siamo messi d'accordo ma effettivamente a rischio di ridire un po' le stesse cose quindi andrò molto veloce poi vi introduco qual è la metodologia oggi più comunemente usata per cercare di testare quindi il cell free DNA di derivazione embrionale nell'ottica del sviluppo di PGTA non invasiva come abbiamo potuto fino ad oggi cosa sappiamo oggi di questo DNA che è presente effettivamente nel mezzo di cultura dal punto di vista di studi molecolari che hanno potuto caratterizzarne l'origine almeno parzialmente e soprattutto poi ci tengo a farvi vedere un po' darvi un po' di criticità nella lettura della letteratura di questa specifica letteratura sulle metodologie su come possiamo anche facilmente prendere delle erronee valutazioni quando il design dello studio non è propriamente corretto e poi qualche conclusione per il futuro questo l'abbiamo già visto anche prima con Laura con Andrea sappiamo benissimo che c'è questa curva oggi ben descritta da questo gruppo dallo studio che abbiamo fatto con Eva Hoffman su una corte di ovosciti dove l'euplodirate sostanzialmente questa curva U si sovrappone benissimo con quella che è la fertilità naturale dell'uomo quindi in questo caso le anoploidie meiotiche sostanzialmente abbiamo capito molto bene che sono quelle che realmente contribuiscono alla capacità riproduttiva dell'uomo e ne determinano appunto il decremento con l'avanzare dell'età riproduttiva sono stati descritti molto bene anche quali sono i meccanismi che cambiano e che quindi mediano l'effetto materno nell'indurre anoploidie e sappiamo benissimo che queste anoploidie meiotiche come diceva Laura nel 99.9% periodico delle segregazioni sono presenti negli embrioni in tutte le cellule e danno un outcome certo che sappiamo interpretare e quindi è questo il nostro target diagnostico abbiamo lavorato molto negli ultimi decenni per sviluppare tecnologie che poi ci diano la possibilità di determinare bene correttamente o almeno accuratamente in maniera sufficientemente accurata lo stato cromosomico degli embrioni preimpianto oggi il gold standard come abbiamo visto era blastocisti con la NGS che sostanzialmente ci ha portato una grande capacità un grande miglioramento in termini di costi soprattutto quindi di possibilità di ridurre i costi e applicare questo determina l'applicabilità della metodica a una più ampia popolazione di utenti che possono avere i loro embrioni testati per l'anoploidia l'unica cosa importante per valutare le performance del nostro gold standard che oggi è la biopsia è ovviamente capirne quali sono i valori predittivi e questo sostanzialmente si vede benissimo che quando si applicano criteri e quando si comprende l'ABC delle metodologie che si usano e si applicano dei criteri che non sovrastivano non fanno overcalling di anoploidia soprattutto a mosaico vedete che la predittività anche in diversi laboratori in diverse cliniche del trofetto derma sull'ICM è circa il 97-98% e soprattutto ci sono dati concordanti molto concordanti tra i diversi studi ottenuti in diversi setting quindi diciamo la biopsia allo stadio di trofetto derma è sicuramente molto predittiva il livello di mosaicismo esiste ovviamente 2-3% di embrioni umani è molto concordante anche con quello che vediamo in gravidanza e questi sono i nostri parametri da tenere riferimento questo ve lo dico perché tutte le nuove metodiche di sviluppo e di diagnostica che vengono sviluppate generalmente poi vengono calibrate e valutate in base al goal standard che in questo caso è la biopsia e il trofetto derma lo studio di non selezione l'abbiamo visto queste anopledie uniformi meiotiche derivazioni meiotiche presenti in tutte le embrioni quando le studiamo ancora in un quindi contesto di elevato anche expertise come diceva Laura in questo caso è il laboratorio di RMA in New Jersey più il Rumble FIAC di Embryonic Foundation di insomma di genetica che sono estremamente competenti nell'analisi sia delle anopledie che nello sviluppo a blastocyste degli embrioni vedete che trasferire embrioni che quindi con uno stato unknown di di eopledia o enopledia in questo caso 102 embrioni trasferiti che erano poi risultati a neoplo in un disegno di non selezione nessuno di questi è risultato in un bambino in braccio ok quindi questo ovviamente 100% non esistono però siamo su livelli assolutamente di elevato valore predittivo positivo e negativo nello stesso studio è stato anche visto sono riusciti anche ad indagare qual è l'effetto e proprio l'impatto della biopsia nella potenziale riduzione della capacità di sviluppo dell'embrione in questo caso hanno potuto comparare il gruppo studio cioè embrioni bioptizzati e trasferiti senza diagnosi con un gruppo controllo edge matched preso dalla loro popolazione di riferimento che non riceveva la biopsia quindi questo è uno studio abbastanza unico e abbastanza powerful per determinare appunto se c'è un impatto della biopsia poi sulla capacità di impianto embrionale al netto ovviamente dell'anoploidie senza considerare le anoploidie e ovviamente riportano in questo caso dati sovrapponibili quindi sembra che la biopsia non dia una riduzione nella capacità di impianto dell'embrione se propriamente eseguita ripeto questi sono dati ottenuti ovviamente in un setting clinico di laboratorio estremamente advanced e con tanto expertise appunto nel fare biopsia quindi ovviamente traslabilità di questi dati su altri setting o verosimilmente anche su blastociste di minore a qualità morfologica devono ancora essere ottenuti però insomma sono dati rassicuranti abbiamo visto gli outcome e la generalizzabilità di questi outcome di diagnosi preimpianto oggi del gold standard che abbiamo nelle precedenti relazioni andiamo quindi a vedere perché la PGT ancora non è fatta oggi in tutti i cicli di IVF almeno dove c'è indicazione di advanced maternal age o nella maggior parte delle cliniche che ovviamente fanno fecondazione assistita in medicina e la riproduzione perché molto probabilmente è ancora una metodica che come diceva Laura richiede un expertise richiede un training richiede dei capital cost di investimento all'inizio per comunque settare per comprare alcuna strumentazione in laser e per fare il training appunto degli operatori detto questo non penso siano queste proprio anche le motivazioni principali perché effettivamente poi come si impara a fare la ICSI dopo 20-25 prove di biopsia di trofetto derma si impara anche a fare la biopsia di trofetto derma probabilmente ci sono altre anche considerazioni a livello proprio di planning e dei centri che è di priorità anche di molti centri che fanno fecondazione assistita che vanno messe in considerazione quindi sicuramente technical skills e kibbent ma anche ancora qualche potenziale reticenza nell'andare a considerare la biopsia come potenzialmente invasiva è ovvio che qualsiasi extra procedura facciamo di micromanipolazione questa porta un rischio dal fatto che ci cade la discia dalle mani fino ad arrivare a qualsiasi altra potenziale rischio di avenienza quindi nonostante siamo molto soddisfatti di quello che è il goal standard che oggi utilizziamo e che è appunto in un range di applicabilità diagnostica sicuramente tutto ciò che può migliorarne alcuni lati alcuni aspetti e portare verso una maggiore applicabilità della metodologia sicuramente è benvenuto se riusciamo a sviluppare delle metodologie non invasive in questo caso l'approccio più perseguito è appunto la collezione del mezzo di cultura embrionale allo stadio appunto di blastocisti che si può fare una semplice pipetta gilson una pipetta si prendono il mezzo di cultura e sostanzialmente poi si analizza in downstream analisi si usano le stesse tecnologie di genetica che andiamo a utilizzare per la biopsia con veramente piccole modificazioni quindi questo è l'approccio che oggi è principalmente studiato e investigato per un'applicazione per muoverci verso degli approcci che siano non invasivi per la caratterizzazione appunto della dell'anoploide embrionale c'è una grande differenza quando si va ad applicare una metodologia non invasiva e che in questo caso ha meno accuratezza del goal standard che è la possibilità di fare in questo caso prioritizzazione degli embrioni invece che deselezione come facciamo con la PGTA perché in PGTA con la biopsia è altamente accurata il valore predittivo positivo è elevatissimo e quindi facciamo deselezione degli embrioni in questo caso si fa e si deve fare prioritizzazione il che porta ovviamente dei vantaggi nel senso che per chi dice ok forse ci perdiamo qualche embrione con la PGTA in questo caso no li trasferisce tutti però è ovvio che deve essere matchato anche con una capacità di poi eseguire transfer di embrioni che hanno verosimilmente un'altra probabilità di essere aneuplodi sono considerazioni propriamente dovute dalle differenti accuratezze delle due procedure perché siamo confidenti o dobbiamo essere o meno confidenti in questa metodologia o comunque cercare di capirla meglio di espanderla meglio perché abbiamo tanti esempi nella letteratura in diagnostica e medicina dove l'analisi del self-free DNA sta portando e ha portato già delle rivoluzioni in ambito diagnostico quindi dalla NIPT che conosce tutti bene che ha cambiato la pratica della prenatale fino ad arrivare oggi a diagnostiche che sono molto più avanzate per la diagnosi precoce e anche per il monitoraggio real time di diverse condizioni patologiche quali per esempio cancro o malattie cardiovascolari questo appunto è estremamente interessante perché in diversi sistemi di liquid biopsies come si chiamano questi approcci si può andare a valutare il DNA circolante quindi libero e associarlo a diverse stadi di malattia e di come anche questa progredisce nel tempo avvicinandoci al nostro campo specifico e quindi facendo una finestra proprio nell'epoca preimpianto lo sviluppo embrionale da dove può avvenire questo DNA circolante embrionale da quale processo da quale meccanismo biologico oggi questo è un buco nero non lo sappiamo non ci sono studi funzionali o meccanicistici che ci hanno detto questo DNA origina da questa condizione fisiologica o da questo meccanismo biologico sappiamo oggi che molto verosimilmente questo DNA viene da come rilascio passivo da un processo apoptotico o necrotico di cui c'è documentata evidenza nello sviluppo dell'embrione preimpianto sappiamo che c'è un turnover cellulare le cellule quando crescono e si differenziano in tutti i sistemi muoiono e quindi verosimilmente rilasciano DNA nell'ambiente extracellulare questo non vuol dire assolutamente non c'è nessuna evidenza in letteratura che almeno non mi preoccupa personalmente che se questo DNA è di derivazione apoptotica o necrotica questo DNA venga da cellule che hanno un carotipo diverso da quello embrionale non c'è ad oggi nessuna evidenza che mi dice o che ci dice le cellule che vanno incontro a degenerazione in epoca preimpianto di sviluppo hanno un più alto tasso di anopletia o meno non evidenze forti su questo d'altro canto ci sono anche evidenze e queste si possono trarre da alcuni studi per esempio sul sangue o sulla saliva di caratterizzazione del DNA circolare libero dove in base a livelli magari di metilazione o alla lunghezza dei frammenti che si trovano nelle biopsie liquide si può anche cercare di capirne un po' l'origine ci sono alcuni processi per esempio infiammatorio di immunomodulazione dove è stato dimostrato che la presenza differente del DNA circolare libero in questo caso è un player fisiologico che media appunto questi processi quindi non è solo un rilascio passivo ma anche un'attività biologica se questo fosse confermato anche per il DNA embrionale ovviamente le varie speculazioni che possiamo fare sono quelle sul cross-talk embrione endometrio il nostro sistema è unico nel senso che abbiamo a differenza per esempio di collezionare la saliva o il sangue o altri liquidi corporei abbiamo un sistema unico perché possiamo prendere il mezzo di cultura su cui è cresciuto l'embrione che sostanzialmente non è invaso da mille altri fattori confondenti ma è un mezzo che sostanzialmente è stato a contatto con l'embrione o con il suo poco materiale di contorno quindi sicuramente l'unica sorgente di cui dobbiamo preoccuparci di cui c'è evidenza in letteratura da diversi studi ormai già dal 2015 questo l'abbiamo dimostrato è che c'è molto un grande eccesso di materna di DNA contaminazione di origine materna che può essere dai corpi polari o può essere dalle cellule del cumulo che nonostante noi decumuliamo molto bene ma comunque rimangono aderenti che poi nel corso della cultura rilasciano DNA nel mezzo extracellulare ovviamente questo va significativamente ad inficiare la qualità dell'analisi quello che è stato lo sviluppo invece diagnostico di questa procedura è stata sostanzialmente sempre andare a correre embrioni andare a fare questi studi di concordanza in uno studio PAIRED cioè prendere la biopsia del trofetto termo al mezzo di cultura fare un'analisi NGS possibilmente blinded in questo caso e andare poi a comparare la concordanza dei risultati e questo è uno dei primissimi studi su PNAS pubblicato su cui ovviamente vi voglio mettere un po' un po' di criticità per l'interpretazione di questi dati in questo studio gli autori riportano una concordanza dell'84% e andiamo a vedere come si definisce concordanza in questo studio si definisce qualsiasi cosa che ha lo stesso diagnosi conclusiva cioè upload 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 questo a me non sembra un campione concordante è vero sono tutte e due upload ma sicuramente non sono due cariotipi concordanti quindi se noi ci basiamo su questa tipologia di analisi ovviamente siamo estremamente influenzati e condizionati dalla prevalenza dell'anoploidio in questa popolazione di studio esempio se noi analizziamo embrioni di donne tutte e cinquantenni che hanno tutti gli embrioni anoploidi il nostro saggio la nostra metodologia diagnostica a tutti i falsi positivi è ovvio che avremo un 100% di concorrenza ma questo non vuol dire che quando lo trasliamo in clinica poi ci dà buoni risultati e questo è stato ecco la concordanza in questo lavoro è stata determinata in questo modo in più nello stesso lavoro ottengono delle gravidanze da questi sette pazienti facendo solo la non invasiva quindi trasferiscono degli embrioni e hanno delle gravidanze a parte che capite bene che molti di questi pazienti non hanno indicazioni a nessun test genetico ma gravidanze possono essere ottenute anche senza nessuna metodologia diagnostica in questi casi quindi loro sostanzialmente qui con questi sei gravidanze dicono la metodica è validata clinicamente in realtà no ci manca almeno un controllo un gruppo controllo per valutare l'efficacia di questa metodologia altro lavoro su PNAS sempre suscettibile di interpretazioni alternative gli autori qua anche con Katrin Rakowski come ultimo nome dicono la non invasiva attenzione è molto più predittiva del carotipo embrionale rispetto alla biopsia quindi perché? perché il DNA viene anche dalla SIEM allora il mezzo di cultura la non invasiva sono sicuramente più predittive della biopsia in realtà andiamola a vedere bene anche questo prima di tutto l'analisi e il mezzo di cultura non è stato raccolto in condizioni cliniche standard embriologiche cioè che noi facciamo l'inseminazione coltiviamo le embrioni finablastociste e raccogliamo il mezzo qui il mezzo è stato ottenuto da embrioni donati per la ricerca congelati scongelati coltivati per 24 ore abbiamo visto prima che un po' di danno cellulare dopo l'agriconservazione può esserci visibile in alcuni casi o in molti probabilmente a livello proprio delle poche cellule anche non visibili al microscopio e quindi mi aspetto che questo mio mezzo di cultura sia un po' più arricchito di DNA embrionale libero e questo sicuramente è una limitazione che favorisce un pochino le performance del nostro mezzo di cultura rispetto alla biopsia ovviamente in questo caso i dati non sono stati ottenuti in condizioni cliniche di crescita embrionale ma il più grande problema è quando compariamo le mele con le pere ma le mele sono acerbe o non sono buone in questo caso è facile dire che le pere sono più buone in questo caso il gruppo gold standard ha delle performance imbarazzanti che ci dicono che è vero similmente le procedure di analisi genetica in questo laboratorio non funzionano bene perché abbiamo un 50% di biopsia e il trophettoderma che hanno un false positive rate e una concordanza dell'embrione con la biopsia di trophettoderma del 62% quindi in questo caso viene favorito il mezzo di cultura ma si usa un gold standard che ha delle performance che non sono attendibili per quanto riguarda la letteratura internazionale diciamo che l'unico studio ampio fino ad oggi ottenuto in condizioni di cultura standard embriologiche è stato ottenuto dal gruppo di Genomics hanno fatto 1300 pair samples in cui sono stati ottenuti questi dati anche in un setting multicentrico quindi più o meno l'80% di concordanza se lo andiamo a guardare con un pochino più di criticità è una stima verosimile di quello che oggi è il potere predittivo di un mezzo di cultura ottenuto in condizioni cliniche e anche abbastanza riproducibile come applicabilità ora c'è una grande differenza quando si analizzano questi dati in particolare che la necessità di tenere gli embrioni fino al day 6 di sviluppo embrionale quando noi analizziamo il mezzo di cultura in quinta giornata di sviluppo le performance scrollano drammaticamente quindi in qualsiasi caso ad oggi ad oggi il workflow e in qualsiasi caso si voglia tentare di fare questa analisi va fatta in giorno 6 anche se abbiamo una blastocistica sviluppata in quinta quindi questa è una delle precisazioni e limitazioni che sono ancora dietro il protocollo più reliable che abbiamo oggi per la non invasiva e quindi in conclusione queste sono un po' le valutazioni che si possono fare tra l'una e l'altra metodica sicuramente per quanto riguarda il mezzo di cultura è ovvio che ci sono grandi aspettative perché potrebbe espandere moltissimo l'applicabilità e sviluppare metodi di selezione embrionale verosimilmente utili da un punto di vista clinico e sicuramente di universale applicabilità non hanno bisogno di spese di costi di training di investimento particolari e ovviamente c'è bisogno che questi approcci poi vengano validati e testati in studi prospettici randomizzati come quello che abbiamo per esempio in corso per verificarne l'utilità clinica da un punto di vista di lavoro ancora da fare oltre a sul piano clinico abbiamo sicuramente una necessità di comprendere meglio quali sono i meccanismi biologici per il rilascio del DNA per ovviamente cercare di capirne i meccanismi e cercare anche di migliorarne un po' la parte diagnostica ovviamente da un punto di vista di applicazione clinica sapete benissimo l'esperienza che è successa in Australia e di cui ovviamente è bene ricordare ogni tanto in Australia è stata applicata la non invasiva e gli embrioni con probabile aneoploidia cromosomica non sono stati trasferiti alle coppie sono stati considerati aneoploidi come facciamo con la biopsia e questo ha generato poi una class action contro la Monash IVF proprio perché ovviamente mai si deve considerare un embrione non vitale o non utilizzabile clinicamente basandoci su un test fatto ad oggi sul mezzo di cultura con delle performance ovviamente diagnostiche così ridotte rispetto ad una biopsia e questo solo per mettere nel contesto l'applicazione stiamo ovviamente lavorando anche con studi prospettici randomizzati per cercare di valutare se questo approccio effettivamente sia già pronto per dare una aumentata per migliorare la selezione embrionale rispetto alla valutazione morfologica standard e questo è uno studio randomizzato multicentrico che è in corso e infine ecco secondo me bisogna lavorare anche dal punto di vista metodologico invece è solo che mandare campione e comparare la concordanza secondo me c'è molto spazio ancora per migliorare le tecnologie in questo è un esempio un lavoro recente molto interessante dove si analizza il profilo di metiloma del self-free DNA che si trova nel mezzo di cultura e in questo caso è possibile separare tramite un modello ovviamente gerarchico è possibile separare e identificare e caratterizzare l'origine del DNA che si trova in questi mezzi di cultura e quello che si vede da questa analisi molecolare più specifica sostanzialmente conferma anche un po' delle osservazioni che sono state riportate prima cioè che il D6 è lo stadio caratterizzato da meno contaminazione materna sia del cumulo che dei corpi polari e che il DNA comunque del mezzo di cultura ha un profilo di metilazione che è consistente sia con la presenza e con il rilascio da parte cellula del trovetto che anche dell'ICM quindi lo sviluppo anche delle metodologie che ci possono permettere di controllare la contaminazione e potenzialmente anche di escludere in un'analisi bioinformatica post hoc dalla valutazione finale è sicuramente probabilmente il futuro per ottenere e alzare ancora un pochino i livelli di concordanza e di predittività di questa metodologia questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione grazie grazie Antonio grazie ai tre relatori che come sospettavamo hanno presentato dei talk davvero stimolanti ci sono domande dal pubblico assolutamente posso fare una domanda è acceso si sente grazie che bello fare una domanda in presenza Andrea volevo chiederti una cosa ormai sono 30 anni dalla nascita della prima bambina con la diagnosi per impianto sono state come tu sai 30 anni di battaglie di controversie di dilemmi a un certo punto quasi una lotta mi riferisco alla diagnosi per la neoploidia e non tanto per le malattie genetiche oggi possiamo dire finalmente che questa procedura ha tutta la dignità per entrare nella PMA nella procreazione medicalmente assistita con la dignità di essere utile come ha detto ci ha fatto benissimo a vedere la Laura non nascono più bambini eccetera lo possiamo dire a livello globale internazionale formalmente o c'è ancora qualche controversia a questo livello perché se finalmente lo diciamo quello che dobbiamo fare è aumentare l'accessibilità alle coppie in Italia come abbiamo visto siamo solo i centri privati a farlo in Francia è difficilissimo quindi abbiamo bisogno di una almeno a livello globale di una dichiarazione ufficiale della utilità di questa procedura oppure ancora prematuro grazie Anna Pia della domanda la mia relazione sembrava abbastanza banale come mai fa una relazione così banale ci dice i registi del coso in realtà era una relazione fra virgolette politica cioè io penso che i numeri nel mondo debbano far capire che è una metodica che si sta utilizzando e che se viene utilizzata in questo senso sarebbe un po' come oggi abbandonare la ICSI o abbandonare il congelamento degli embrioni degli ovociti degli spermatozoi solo perché lungo il corso del trattamento si perde qualche embrione penso che la valutazione che è stata fatta fino ad oggi era sulla capacità di diagnosi e quindi su quanto questa metodica fosse realmente affidabile dal punto di vista di diagnosi oggi abbiamo visto che è affidabile che è affidabile e fatta nel mondo se si vuole se lo si guarda da un punto di vista diciamo così più no non voglio usare aggettivi però se si vuole essere sicuri che è un embrione che noi non trasferiremo mai è veramente un embrione per una neoploidia non ci siamo ancora però ritengo che quei pazienti che sono costretti a meglio che trasferiscono embrioni in sequenza e che sappiamo tutti non possiamo negarlo che si stancheranno di trasferire embrioni quindi ci sarà drop out quindi smetteranno di fare tentativi quindi non avranno figli beh se mettiamo sul piatto la bilancia queste due problematiche penso che siccome siamo medici per i nostri pazienti sia assolutamente meglio cercare di arrivare prima alla gravidanza e cercare di evitare il più possibile trasferimenti fra virgoletti inutili ho fatto vedere come tu hai sottolineato Anna Pio ho fatto vedere il registro italiano dove sfortunatamente non è una cosa che in questo momento può essere fatta nel pubblico so che il tavolo tecnico si sta impegnando anche su questo per poter trovare modo per avere un LEA anche per fare radiance per impianto nei centri pubblici perché altrimenti sembra che sia una gara a chi è più bravo tra pubblico e privato e sembra come al solito che il pubblico accusi il privato di voler far soldi e il privato accusi il pubblico di essere poveretto in realtà non possiamo discutere in questi termini nel nostro lavoro quello che è importante sono i pazienti e è indubbio che il drop out è inferiore quindi questo penso che debba essere preso in considerazione sì c'è un'altra domanda prego al microfono è premesso che sapete che sono favorevole alla PGTA nell'avance maternal age quando la donna produce un numero sufficiente di ovociti c'è un messaggio clinico che pongo a voi spesso ci troviamo soprattutto nelle donne allora meno giovani e vorrei capire se il messaggio che potremmo dare è supportato secondo voi da sufficienti dati clinici o no la donna che ha fatto un sacco di tentativi che è più in là negli anni che produce ancora degli ovociti se dovesse avere una blastocisti e un ploid possiamo dirgli che in questo caso lei ha le stesse probabilità di nascita di una di una procedura da donazione abbiamo abbastanza dati per poter dire questa cosa no penso di no perché non è solo l'assetto cromosomico che dà poi ce lo dirà anche Laura però non è solo l'assetto cromosomico che ci dà la possibilità per quelle blastocisti poi di diventare un bambino però la questione non la possiamo dirimere noi cioè io sono un po' diverso dalla maggior parte di voi quando faccio counseling sono poco direttivo sul fatto di far fare ovodonazione è un mio difetto lo so però io voglio che l'ovodonazione ma la chieda la paziente cioè la coppia mi dice dottore ci siamo rotti vogliamo fare una donazione di gameti in quel caso sono contento che loro facciano questa scelta e che quindi facciano una donazione faccio un pochettino più fatica a essere direttivo cosa intendo per direttivo cioè convincere una coppia che è una buffonata e non serve a niente fare transfer di blastocisti e euploidi poi possiamo discutere sul fatto che ovviamente prima di fare tutto questo prima di arrivare ci dico che avranno rare probabilità di avere una blastocista e euploide questo fa parte del counseling che non è che devo per forza fare in questi termini quindi secondo me no se posso aggiungere un piccolo commento il problema è che la 43N che ha una blastocista e euploide ne avrà al massimo una e quindi si gioca tutto in un unico transfer quindi l'aspettativa è elevatissima anche se per transfer probabilmente ha le stesse possibilità che un embrione che proviene da ovo donazione la differenza fondamentale è però che una volta che la coppia intraprende il processo di ovo donazione avrà accesso a un numero tra virgolette infinito di embrioni da trasferire quindi cumulativamente non c'è dubbio che l'ovo donazione sia più efficace da una parte abbiamo un solo embrione se ce l'abbiamo dall'altra parte abbiamo accesso a una nuova tecnologia nel momento in cui cambia l'origine dei gameti che gli può offrire una possibilità cumulativa di gravidanza molto più elevata grazie Laura ci sono ancora domande dal pubblico sì prego primo posto grazie mille per brillanti relazioni io vorrei chiedere sulla possibilità di ammigliorare la qualità dell'ovocita dei gameti anziché spingere sulla PGTA perché è naturale che abbiamo interesse sulla PGTA ma per esempio per illustrare la mild stimulation sembra essere associata con livelli un tasso inferiore di aneoploidia quello per me vuoi dire che c'è magari posto per utilizzare informazioni come abbiamo visto ieri da Sergio da Giovanni per migliorare invece di spingere sulla selezione in futuro è una domanda comunque filosofica abbiamo posto per questo si può fare meglio in questa direzione diciamo che la diagnostica è più facile innanzitutto di sviluppare nuove terapie il fatto che ci sia meno anoplody rate una minore anoplody rate a seconda della stimolazione questo insomma andrebbe controllato un po' meglio non ci sono dati conclusivi proprio solo per chiudere di sicuro magari si giocano meno chance su meno embrioni quello probabilmente è più certo lo sviluppo di terapie per migliorare la funzionalità per esempio la qualità all'ovaio è sicuramente una tematica estremamente interessante verosimilmente quello dove tutti vogliono andare c'è un bellissimo studio uscito recentemente su Nature per esempio che ha riportato nuovi potenziali target per poter iniziare a pensare a delle soluzioni di questo di estensione anche del gruppo di John Perry e Hugh Hoffman quindi hanno visto che ci sono dei patogeni estremamente interessanti e nuovi geni coinvolti nella modulazione della qualità e anche della funzionalità ovarica che nel modello animale in realtà si possono modulare in maniera anche abbastanza efficace per estendere la longevità aumentare la risposta ovarica e quindi probabilmente questo ci porterà nel futuro come diceva anche Andrea a vedere nuove soluzioni terapeutiche ovvio che oggi quello che abbiamo di forte robusto e consolidato è la diagnostica per quello facciamo quella perché è robusta posso aggiungere filosoficamente le due strade viaggio del parallelo l'importante è introdurre in PMA tecniche che siano validate perché è chiaro che a una paziente gli fa molto più piacere fare qualcosa che migliori la sua qualità ovocitaria piuttosto che semplicemente testare l'embreone e scartare quello sbagliato ma ricordiamoci che prima di introdurre una tecnica che migliori la qualità dei gameti dobbiamo essere certi che questa tecnica non vada invece a aumentare altri tipi di rischi o addirittura a diminuire le cose che è successo come è avvenuto nella tecnica OVA Science che ecco insomma aveva come scopo il miglioramento della qualità ovocitaria in realtà ne diminuiva per l'extra manipolazione la competenza quindi le due strade devono viaggiare in parallelo ma devono avere tutta quella validazione che è stata necessaria per il test di agnosti che è ancora più importante in qualcosa che vada a modificare la natura intrinseca del gamete aggiungo posso scusa vedo già Filippo in fondo per rispondere al collega no volevo soltanto dire ma poi dopo presenterò dei dati nella presentazione farò che per quanto riguarda sono d'accordo di cercare sempre possibilità di miglioramento a livello ovocitario ma la My Stimulation determina un miglioramento della qualità ovocitaria l'unico lavoro che ha fatto vedere che c'è una proporzione maggiore di embrioni euploidi è un lavoro di Ester Barth nel 2007 dove la diagnosi preimpianto veniva fatta con la FISH su 7 cromosomi che è stato dimostrato che non ha assolutamente validità scientifica mentre tutti gli altri lavori che sono stati fatti per quanto riguarda la neoploidia hanno visto che non c'è assolutamente correlazione tra stato cromosomico e il numero di osciti recuperati o quantità di gonotropina somministrata quindi la My Stimulation non determina un miglioramento della qualità ovocitaria può determinare altre cose come una riduzione del rischio di sindrome di stimolazione ovarica anche lì se non adotti un tipo di stimolazione che elimina il rischio di iperstimolazione ovarica però sono d'accordo di cercare qualcosa che possa migliorare la qualità intrinseca degli ovociti e sono d'accordo nel dire di non fare però delle azioni che possono invece peggiorare la qualità degli ovociti stessi come ha detto Laura prima Posso aggiungere solo una cosa a questo perché mi sembra parte la domanda importantissima ma dobbiamo però capire da dove partiamo perché partiamo dal fatto che le cellule uovo di per sé sono alterate perché se è vero che sono più alterate nelle donne con più età e sono meno alterate nelle donne con meno età la stimolazione non c'entra cioè anzi la fregatura nelle donne con più età è che rispondono con meno ovociti quindi il dato è se è vero che è un problema biologico la stimolazione ahimè non ci faccia niente tant'è vero che il ciclo naturale non è che dà miglior risultato a questo punto di vista quindi se la domanda era le stimolazioni le iper stimolazioni avere un eccesso di ovociti comporta un'alterazione degli ovociti che io ne sappia no o meglio è una speculazione che è stata fatta in passato abbiamo adesso tu sei giovane però abbiamo fatto dibattiti acerrimi tra mild stimulation o mild stimulation su quello che è la qualità degli ovociti ma siamo ancora qua a ragionare sul fatto che oggi non so se sia la teoria più giusta oppure no non c'è dubbio che nella gravidanza cumulativa avendo oggi possibilità di congelare gli embrioni con ottimi risultati dello scongelamento la probabilità cumulativa per una donna per una coppia di avere una gravidanza è molto più alta se tu hai più ovociti che se ne hai meno a parità di età a parità di tutto quindi in realtà questo lo vorrei sfumare un po' poi se abbiamo un sistema in cui inietto qualcosa negli ovociti faccio altre cose allora questo è un altro discorso però al momento non certo sulla stimolazione non so se era questo che tu intendevi concluderei posso vai io vorrei solo magari staccare la discussione della super stimolazione perché ho magari ho sbagliato nell'esempio non è questo il punto non è la no ma io ti ho capito infatti per questo che parlo di biologia cioè la domanda è sulla biologia la stimolazione mi è venuta subito in menti però mi viene un altro esempio Antonio Lamarca ha pubblicato un lavoro che associa livelli più bassi di AMH con la neoploidia magari ci sono meccanismi lì nascosti che ancora quindi è una domanda più filosofica se abbiamo spazio posto per migliorare però no no ma mi non ero un contraddittorio era solo per cercare di arrivare a darti una risposta era solo per quello sì ok e aggiungo su questo che sicuramente lo spazio migliore c'è nell'informare del concepire presto però probabilmente questa opportunità l'abbiamo già persa quando la donna accede alla PMA perché l'età materna è già avanzata concluderei solo con una domanda con un piccolo approccio clinico sul monitoraggio della gravidanza consigliereste chiedere ai relatori in virtù dei dati del mosaicismo su blastocisti che sono emersi allora ci siamo salutati qualche anno fa con una finestra che andava dal 5 al 95% di percentuale di rischio di mosaicismo quando si andavano ad analizzare le blastocisti ora l'abbiamo molto confinato ci siamo confrontati adesso parlando di dati sovrapponibili praticamente a quelli del tasso di mosaicismo che incontriamo in villocentesi 2-3% quando questo accade in prenatale tendiamo a dare l'indicazione a fare un approfondimento in più in ammiocentesi a verificare questo mosaicismo che strada abbia preso sulle diagnosi preimpianto con esito di blastocisti e euploide rispetto a quelle con esito di mosaicismo la tendenza dal punto di vista clinico e a dare un cancelling per un approfondimento dopo con un test ancora predittivo non invasivo il NIP oppure a procedere con una villocentesi come un'annocentesi ci sono due strade diverse che tendete a proporre allora posso rispondere un attimo siamo diciamo stanno uscendo adesso delle diverse linee guida è un'ottima domanda Sabina nel senso che è proprio molto attuale perché ad oggi diciamo c'era la tendenza di indicare un percorso diverso per queste gravidanze in realtà i dati che abbiamo oggi sono più di 3.000 ormai embrioni con pseudo mosaico trasferiti dopo cicli di diagnosi preimpianto e gli outcome in gravidanza sono esattamente gli stessi di una gravidanza ottenuta con embrioni oploide o spontanea da un punto di vista di rischio di mosaicismo in gravidanza che vuol dire che ad oggi da 3.000 embrioni trasferiti con una diagnosi fatta di mosaicismo più o meno attendibile che sia ma comunque se lo andiamo a vedere poi in gravidanza quindi sullo stadio che ci interessa c'è stato solo un case report quindi uno su 3.000 che ha riportato lo stesso mosaicismo dell'embrione diagnosticato in amniocentesi anche sul bambino e tra l'altro il bambino non aveva nessun fenotipo e non ha nessun fenotipo ma va bene comunque come concordanza è uno su 3.000 quindi le nuove linee guida raccomandazioni che stanno uscendo dall'escere che le stiamo concludendo proprio adesso c'è anche Giovanni nello working group sostanzialmente raccomandano nessun tipo di considerazione diversa in gravidanza rispetto ad una gravidanza ottenuta con un embrioneoploide ciò vuol dire non un accanimento su queste gravidanze in virtù del fatto che non è ancora dimostrato un rischio aumentato per queste gravidanze e la stessa posizione mi sembra stia prendendo anche il PGDIS come società scientifica che stanno revisionando appunto anche loro le linee guida sul mosecismo in Italia stiamo discutendo parecchio con Francesca Grati su questa tematica perché loro tendono a essere un po' abbiamo posizioni un po' diverse ma andremo a trovare a comprendere le ragioni reciproche comunque le linee guida internazionali andranno a raccomandare a breve questo cioè che queste gravidanze da embrioni pseudomosaci non abbiano non debbano essere andare incontro ad un follow up prenatale diverso rispetto ad un embryo neoploide o ad un concevimento di una donna insomma spontanea quindi non una considerazione particolare rispetto al fatto che c'era questa chiamata di mosecismo sulla PGDIS grazie grazie a tutti davvero complimenti e quindi sciogliamo la sessione a questo punto grazie 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 allora ricominciamo subito con l'ultima delle sessioni di questa mattina e lasciatemi ovviamente ringraziare Andrea e Giovanni per l'invito e io vorrei congratularmi con loro per aver saputo mantenere l'idea di un appuntamento no se ci pensate l'idea di un appuntamento è qualcosa che ha a che fare col tempo cioè tutti noi ogni anno abbiamo aspettato che Andrea in qualche modo ci coinvolgesse e generare un appuntamento ha a che fare fondamentalmente come vi ho detto con il tempo il che significa che è una cadenza e il tempo è qualcosa che genera l'idea del futuro quindi grazie per darci l'idea che siamo in un ambito in cui il futuro conta noi vediamo ogni anno che cosa nel futuro cambia vediamo dei giovani meravigliosi fantastici che rappresentano una nostra continuità io ho l'onore di moderare due fantastici personaggi uno è Livio Caserini e l'altro Carlo Alvigi che prenderanno la parola per parlarci uno dal punto di vista immagino delle basic science e l'altro dal punto di vista della clinica di attività LHHCG quindi non vorrei utilizzare altro tempo per descrivere queste persone ma le invito soltanto ad intervenire la prima relazione è quella di Livio Caserini sulla risposta recettoriale all'HCGLH e gli passo immediatamente la parola grazie Grazie per la presentazione grazie anche agli organizzatori per l'invito mi fa molto piacere io mi chiamo Livio Caserini non sono un ginecologo non faccio pratica clinica lavoro presso l'unità di endocrinologia dell'università di Modena e Reggio Emilia in questo ospedale che è l'ospedale Sant'Agostino Estense dove studiamo la fisiologia delle gonadotropine quindi le molecole che voi usate tutti i giorni nella vostra pratica clinica e questa è la lista degli argomenti che tratteremo oggi in 20 minuti ci sto dentro non vi preoccupate guarderemo subito alcune differenze strutturali tra queste due molecole l'LH e l'HCG dopodiché un breve riassunto molto veloce sul loro uso in ambito umano ma soprattutto andremo a vedere le loro differenze che ci sono dimostrate dagli studi in vitro e perché sono importanti per la pratica clinica quindi cominciamo con le loro differenze ora non vi trattengo troppo su come funziona la regolazione dell'asse ipotalamo ipofisi gonadi perché la conoscete benissimo il GNRH agisce a livello dell'ipofisi e induce la produzione di ormone follicolo stimolante ed LH l'ormone luteinizzante questi due ormoni ma focalizzerei l'attenzione sull'LH agiscono sulle gonadi sia maschili che femminili e induce la produzione di androgeni androgeni i quali sono convertiti in estrogeni nel caso dell'ovaio nella specie umana nella femmina della specie umana e di altri primati è presente però una terza gonadotropina si chiama HCG gonadotropina corionica umana e ha la particolarità di entrare in gioco durante la gravidanza come sapete benissimo e il suo compito almeno dal punto di vista endocrino è quello di indurre una produzione di progesterone molto marcata in modo da supportare poi appunto la crescita fetale quindi le prime differenze tra queste due molecole sono fisiologiche entrano in gioco in momenti fisiologici differenti l'LH in particolare è un regolatore della follicologenesi e ha un'emivita molto corta l'HCG invece è l'ormone della gravidanza ha una più lunga emivita più lunga emivita che è data da una serie di glicosilazioni si vede il pointer di glicosilazioni che sono portate dalla subunità beta di questa molecola sono molecole fatte da due subunità alfa e beta la beta è quella che poi lega il recettore per entrambe infatti hanno un recettore comune le loro differenze dal punto di vista biochimico e molecolare sono riassunte in questa slide anche se ci sono numerose altre differenze genetiche evolutive che potete trovare descritte nella review che è referenziata qui ad ogni modo volendo riassumere quelle che sono le loro caratteristiche più evidenti sono un diverso peso molecolare l'HCG è più pesante dell'LH è anche una molecola la cui subunità beta è un po' più lunga 28 aminoacidi in più e appunto ha un più alto numero di glicosilazioni che la rende più stabile e quindi dura di più nel siero in termini di emivita vediamo come quindi queste due molecole vengono usate nell'uomo e nella donna anche qui questa diapositiva ha bisogno di poche presentazioni anzi direi che la conosciate meglio voi di me in alto c'è un ciclo naturale messo a confronto con il ciclo ovarico controllato ovviamente una semplificazione poi ci sono numerosissime varianti di questa pratica ma diciamo che per oggi possiamo dire che l'LH entra in gioco durante la fase entrale o meglio anche dopo ma vorrei focalizzare la vostra attenzione sulla fase entrale dove media dei segnali proliferativi e supporta insieme all'FSH e all'estradiolo la selezione del follicolo dominante e la sua maturazione fino all'ovulazione indotta appunto dall'LH a metà del ciclo grazie a un aumento della sua concentrazione nel siero dopodiché l'LH viene downregolato e sostituito dal progesterone grazie al supporto dell'HCG in caso di gravidanza in un ciclo controllato invece il tutto è supportato dall'FSH al quale però possiamo aggiungere LH oppure HCG lo scopo è ottenere quindi in una specie come quella umana che è mono-ovulatoria una crescita multifollicolare questo è molto interessante quindi l'LH e l'HCG possono aiutare in un certo senso l'FSH nell'indurre alti livelli relativamente alti livelli di estradiolo e supportare questa crescita multifollicolare l'HCG può quindi essere usato anche per il trigger dell'ovocita questo gioco si regge su il ruolo di queste due cellule le cellule della teca e le cellule della granulosa sono cellule ovariche lo sapete bene esprimono i recettori dell'LH e dell'FSH le cellule della teca sono i recettori dell'LH ma diciamo che il loro compito è quello di produrre androgeni convertiti poi in estrogeni a livello ovarico l'HCG può essere usata anche nell'uomo può essere usata per i trattamenti dell'infertilità maschile questo può sembrare sorprendente dal momento che l'HCG nell'uomo non esiste se non in casi particolari viene utilizzata perché iniettando HCG in un uomo si può indurre un aumento dei livelli di testosterone grazie all'azione dell'HCG sui recettori dell'LH espressi dalle cellule di Leiding testicolari trovate poi un sacco di HCG anche nel dark web infatti ci sono dei tizi che dicono che potete comprarla per aumentare le dimensioni del pene io non so se qualcuno si è interessato però io lo dico per completezza di informazione comunque suggerisco di non provare guardiamo piuttosto gli studi in vitro studi in vitro che si basano tutti sul solito concetto di vedere cosa succede una volta che trattiamo cellule che esprimono il recettore di queste due molecole vedere come attivano le vie di trasduzione del segnale che sono qui addirittura semplificate in questa diapositiva molto complicata ma niente paura perché possono essere riassunte i due grandi gruppi il primo gruppo è quella serie di eventi che sono rappresentati dalle frecce rosse sono i segnali steroidogenici quindi che portano poi alla sintesi di progesterone ed estradiolo che vanno sempre di pari passo a segnali pro-apoptotici cioè di morte cellulare queste due vie vengono attivate insieme e vengono attivate grazie all'azione della proteina G-alfa-S generalmente accoppiata al recettore dell'LH e dell'HCG la quale induce un aumento di AMP ciclico a livello intracellulare e più a valle fosforilazione di PKA CREB ERC ovviamente CREB è un fattore di trascrizione che induce la trascrizione di geni che poi codificano per enzimi steroidogenici AMP ciclico e PKA contemporaneamente però vanno ad attivare altre vie di trasduzione del segnale ad esempio la P38 MAP-Kinasi associata a valle a morte cellulare questi segnali steroidogenici e propoptotici però sono sempre controbilanciati contemporaneamente dall'attivazione di segnali che invece sono proliferativi e anti-apoptotici e che ne contrastano gli effetti ciò ciò è possibile grazie all'attivazione di altri interattori intracitoplasmatici del recettore tra cui proteina Gα-I I sta per inibitoria oppure beta-restine che sono molecole che sequestrano il recettore dalla superficie cellulare e in un certo senso lo inattivano dopo vedremo che non è esattamente così proteine Gα-Q tutte portano all'attivazione più avalle di vie appunto mitogeniche e segnali di sopravvivenza attivati da ERC e AKT queste due chinasi che appunto hanno l'effetto di contrastare la morte cellulare e di supportare la steroidogenesi nel corso degli anni precedenti una decina d'anni anche di più abbiamo studiato a fondo il cell signaling mediato da questo recettore e abbiamo confrontato in vitro l'effetto di LH e di HCG questo slide è un riassunto molto veloce quindi di 10 anni di studi in cui nel grafico sulla sinistra potete vedere che si ha il risultato due curve dosi risposta diverse per LH e HCG questo esperimento è stato fatto mettendo in coltura le cellule della granulosa che esprimevano il recettore dell'LH le abbiamo trattate con dosi crescenti di LH e HCG dopodiché abbiamo misurato la quantità di AMP ciclico prodotto da queste cellule come vedete la curva dell'HCG è spostata verso sinistra questo indica che è sufficiente una più bassa concentrazione di HCG rispetto a LH per attivare l'AMP ciclico nella stessa quantità quindi l'HCG è più potente dell'LH nell'attivare i segnali steroidogenici e forse proprio optotici di contro l'LH e sorprendentemente perché non ce l'aspettavamo è risultato essere più potente dell'HCG nell'attivare invece le chinasi associate a sopravvivenza ed eventi anti-apoptotici quindi abbiamo due diversi effetti delle molecole che si distinguono a livello qualitativo come vedete dal western blot sulla destra vedete un segnale più potente per quanto riguarda la fosforilazione di ERC e AKT proprio ad indicare una maggiore attivazione di questa molecola indotta da LH quindi da una parte i segnali proliferativi anti-apoptotici associati a LH steroidogenesi e morte cellulare associati ad HCG e tra tutti i dati che potevo mostrarvi oggi avevo scelto andando a valle di questo cell signaling di scegliere i dati che dimostrano una diversa attivazione delle vie pro-poptotiche di queste molecole in questa diapositiva sono mostrati i dati di espressione genica di alcuni geni che regolano l'apoptosi quindi la attivano oppure effetti contrari cioè proliferazione e eventi anti-apoptotici in particolare vedete che in cellule della granulosa trattate con HCG si ha una più potente trascrizione del gene che codifica per la caspasi 3 che è quell'enzima che attua la morte cellulare per riassumerla in breve ciò è probabilmente dato dal fatto che invece l'LH è più efficace rispetto ad HCG ad attivare la trascrizione di alcuni geni anti-apoptotici tra cui ad esempio XIAP XIAP sta per X-linked inhibitor of apoptosis vector bene in questo caso appunto l'LH è più potente nell'attivare la via anti-apoptotica abbiamo usato per questi esperimenti due diverse dosi di LH e HCG ma sono dosi equipotenti sono ovviamente in termini molari perché per gli esperimenti in vitro è necessario dosare bene il numero di molecole più che le unità internazionali che sono una misura della loro attività in vivo in questo caso le dosi equipotenti sono state scelte perché sono quelle che attivano allo stesso livello l'AMP ciclico a valle della trascrizione genica abbiamo studiato cosa avviene fisicamente a livello dell'apoptosi in questo esperimento le cellule sono state mantenute in coltura per diverse ore in presenza di LH oppure di HCG vedete che l'HCG risulta in una decrescita scusate in una decrescita della vitalità cellulare e questo c'è risultato sorprendente quindi in un certo senso l'HCG uccide queste cellule se mantenute ovviamente in coltura in certe condizioni ad esempio assenza di siero quindi queste cellule non erano più in grado di produrre ormoni steroidei efficacemente eccetera eccetera insomma mentre l'LH non ha lo stesso effetto e questo lo si può vedere anche dal taglio dal cleavage della Procaspasi 3 l'LH la preserva la Procaspasi 3 invece il precursore della Caspasi viene clivata cioè attivata quindi si ha il calo di segnale in presenza di HCG a questo punto la domanda potrebbe essere ma allora perché l'HCG in vivo non uccide le nostre cellule perché il segnale proprio optotico in vivo che è sempre accompagnato da un segnale steroidogenico viene appunto tradotto in una più alta produzione di ormoni steroidei e gli ormoni steroidei sessuali sono dei potenti fattori antiapoptotici se noi ripetiamo lo stesso esperimento in presenza di estradiolo quindi co-trattando le cellule con HCG e con estradiolo vedete che le cellule non muoiono più non si ha più il cleavage della Procaspasi 3 anzi si attiva la fosforilazione di AKT molecola antiapoptotica questi sono i risultati che derivano da studi in vitro fatti tempo fa e che fondamentalmente possono essere riassunti quindi come una diversa azione di queste due molecole l'HCG è più potente nell'attivare steroidogenesi morte cellulare visibile però in certe condizioni in vitro e l'LH invece dà evidenti segnali proliferativi e antiapoptotici ma le nuove tecniche ci permettono di studiare anche di più il cosiddetto late signaling o quello che io chiamo la seconda vita del recettore dell'LH siamo abituati a pensare che i recettori delle gonadotropine vengano attivati grazie al legame con il proprio ligando dopodiché attivino un primo shot una prima ondata di AMP ciclico dopodiché vengano sequestrati inibiti e downregolati e quindi poi non funzionino più questo è sbagliato le tecniche moderne di analisi in vitro ci permettono di vedere che il recettore invece non solo viene internalizzato ma una volta all'interno del citoplasma continua a funzionare però attiva vie di trasduzione del segnale diverse entro un certo arco di tempo viene racchiuso quindi il complesso ligando recettore in strutture fosfolipidiche chiamate endosomi e questi endosomi trasportano il recettore attraverso delle strade fra virgolette a livello intracellulare e ne determinano a valle la sua degradazione oppure il recycling cioè riportano il recettore sulla superficie cellulare e lo rendono disponibile ancora al legame con l'LH o l'HCG quindi ci sono diversi tipi di endosoma a seconda di quanto ci mettono a riciclare il recettore o se portano alla degradazione il recettore parliamo di very early endosome quell'endosoma che è associato a una proteina chiamata apple 1 non vedremo dati su apple 1 oggi però diciamo che il very early endosome si comincia a formare dal momento in cui il recettore viene attivato viene legato alla beta restina e comincia ad essere trasportato a livello intracellulare andando un po' avanti nel tempo questo very early endosome può portare a un rapido recycling del recettore sulla superficie cellulare oppure può diventare il cosiddetto early endosome qui non ci sono sprecati in quanto a fantasia sui nomi però l'early endosome attiva un cell signaling di tipo diverso perché induce una più potente attivazione di ERC molecola proliferativa in queste cellule a questo punto il recettore va verso la degradazione oppure verso un suo recycling più tardivo grazie agli endosomi i marker del very scusate dell'early endosome è RAB5 una molecola associata al recettore e al resto del complesso proteico che ne fa parte a livello endosomiale oppure parliamo di RAB7 come marker dell'endosoma che porta alla degradazione o RAB11 se si vuole studiare il recycling più tardivo quindi grazie a una nostra bravissima dottoranda che si chiama Elia Paradiso abbiamo studiato abbiamo confrontato le performance per così dire di LH e HCG nell'indurre il recycling o la degradazione del nostro recettore una volta che è stato stimolato ci siamo serviti per fare questo anche di una molecola chiamata DINOSOR che è in grado di inibire la internalizzazione del recettore e cercare di discriminare meglio l'azione delle due molecole quindi la prima molecola che abbiamo studiato è la beta-restina e come questa si associa al recettore beta-restina che ricorda essere quella che inizia il processo di internalizzazione del recettore dell'LH abbiamo quindi tenuto le nostre cellule in coltura insieme a LH e HCG e abbiamo guardato con un esperimento di binding quanto fosse forte l'interazione tra il recettore dell'LH e la beta-restina in presenza dei due ligandi questi grafici in genere fanno svenire un po' la platea però me ne rendo conto ma sono molto facili da capire in realtà vedete che nel grafico a sinistra ci sono delle curve curve che sono date appunto dal segnale ottenuto dall'interazione tra l'LH e in questo caso la beta-restina è un segnale fluorescente per capire bene queste curve è sufficiente sapere una cosa più la curva è spostata verso sinistra ed è alta e maggiore sarà l'interazione e quindi l'affinità di legame tra il recettore dell'LH e la beta-restina non che è più specifico anche questa interazione sarà più specifica come vedete l'HCG induce una più forte interazione tra il recettore dell'LH e beta-restina e questo suggerisce che l'HCG è più potente dell'LH nell'attivare il sequestro del recettore dalla superficie cellulare questi dati sono abbastanza nuovi sono in un manoscritto in preparazione ma fondamentalmente confermano quanto avevamo già visto in diversi modelli in altri modelli cellulari in questo caso grafico a destra cellule di Leiding di Topo esprimenti un recettore umano però e in questo caso diciamo il dato è lo stesso quindi abbiamo confermato ciò che più o meno si sapeva già ci sono però anche altri interattori del recettore ad esempio la proteina G-alpha-I che è quella che attiva poi Fosfo-ERC avalle e va ad inibire il segnale steroidogenico e proprio optotico in questo caso è invece l'LH ad essere più potente nell'attivazione dell'interazione tra proteina G-alpha-I e recettore dell'LH e questo si sposa molto bene con una più potente attivazione nel tempo della fosforilazione di ERC e ancora una volta si vede il segnale proliferativo mediato dall'LH una cosa molto interessante è che l'LH per fare questo si serve dell'endosoma ha bisogno di sequestrare di indurre il sequestro del recettore dalla superficie cellulare per poter attivare Fosfo-ERC efficacemente e questo lo si vede incubando le cellule insieme al dinosaur e in questo caso sparisce quasi la fosforilazione di ERC quindi vedete che già ci sono delle differenze tra le due molecole Livio dovresti arrivare alle conclusioni ok faccio molto presto per quanto riguarda il calcio la molecola è G-alpha-Q che media l'attivazione del calcio vedete che entrambe le gonadotropine inducono una interazione simile tra tra recettore e proteine G-alpha-Q tuttavia è noto che il calcio non sia in grado di attivare scusate l'LH non sia in grado di attivare il calcio invece l'HCG lo attiva in maniera molto potente e ancora una volta grazie al dinosaur riusciamo a vedere il contributo dell'endosoma in questo infine abbiamo studiato un'altra diapositiva un po' complicata ma abbiamo seguito la strada del recettore e abbiamo confermato grazie all'interazione tra i vari marker dell'endosoma come l'HCG induca una più potente internalizzazione del recettore entrambe le molecole sembrano indurre lo stesso livello di distruzione del recettore ma è l'LH che ne induce un più rapido recycling e più potente questo è suggestivo del fatto che l'HCG per mediare i suoi segnali senza uccidere la cellula ha bisogno di internalizzare il recettore salterei quindi siccome manca poco tempo salterei i dati che dimostrano che spiegano dal punto di vista dell'interazione a livello recettoriale la diversità di queste due molecole ci sono solo differenti punti di contatto tra le due molecole e entrerei semmai verso le ultime due slide in cui possiamo vedere come il segnale proliferativo più potente dell'LH il segnale steroidogenico mediato in maniera più potente dall'HCG si possano differenziare ed essere visibili anche in vivo è chiaro che per vederli in vivo queste differenze che sono già piccole a livello dell'invitro è necessario avere un alto numero di pazienti che difficilmente uno studio clinico potrà raggiungere ma grazie alle metanalisi possiamo farci un'idea di quello che succede e in effetti l'impatto del segnale proliferativo dell'LH è meno steroidogenico si traduce a valle in un minor numero di ovociti raccolti rispetto a in un contesto di fecondazione assistita rispetto ad HCG quando questo viene aggiunto al trattamento con FSH ma in compenso probabilmente una più alta qualità ovocitaria perché si ha una più alta pregnancy rate a parte che il dato sia corretto per il numero di ovociti impiantati quindi questi dati non significano che una molecola sia meglio dell'altra hanno solo caratteristiche diverse ultima diapositiva di uno studio molto recente che stiamo conducendo anzi abbiamo terminato da poco studio in vitro abbiamo visto gli effetti dell'aggiunta di LH in un contesto di pur sub responder in vitro definizioni che abbiamo estratto dallo studio Poseidon per diciamo determinare quale cellula fosse quale donna fosse una donatrice pur responder o normal responder ancora una volta vedete che scusate in questo caso l'LH scusate l'FSH non è in grado di stimolare efficacemente l'AMP ciclico ma il dato è uguale per progesterone anche se non lo mostro in cellule prese da pur e sub responder può essere corretto questo piccolo difetto chiamiamolo così dall'aggiunta di un po' di LH che riporta a livelli del trattamento con solo FSH la curva dose risposta di queste donne purtroppo non abbiamo un confronto tra LH e HCG in questo caso lo studio non era nato per questo sarebbero serviti troppi pazienti per poter fare questo confronto ma in conclusione ci sono queste due molecole che sono ben diverse tra loro modulano un cell signaling diverso che richiede però il contributo dell'endosoma questi sono dati nuovi e probabilmente hanno anche un impatto quindi poi a livello clinico una delle tante discussioni è se l'LH e l'HCG possono dare benefici al trattamento con FSH o sono diversi in un contesto di pur responder e anche perché no usare l'LH in ambito maschile grazie per l'attenzione ringrazio il mio gruppo e voi per l'attenzione grazie Livio faremo la discussione di queste due relazioni e l'ultimo perché Carlo ci parlerà dell'aspetto dell'applicabilità clinica del messaggio LH e l'HCG durante la stimolazione ovarica Carlo bene ringrazio Andrea ringrazio Giovanni per questa opportunità entro subito nel merito dell'argomento Andrea però non mi ha fatto trovare la Gomualdi come faccio a litigare adesso mi sembra troppo pacifica come relazione devo mettermi più vicino al microfono non mi muovo forse è meglio rimuova la mascherina assolutamente sì puoi perfetto assolutamente bene parliamo Livio ci ha raccontato delle cose interessantissime mi piace moltissimo questa sequenza di relazioni perché mi offre l'opportunità di dare qualche spiegazione relativa come certe evidenze che derivano dalla ricerca di base possano essere coniugate e declinate nell'ambito delle osservazioni cliniche però prima di entrare nel merito della spendibilità dell'attività LH nell'ambito della pratica clinica mi sono fatto una domanda ma come facciamo a capire se effettivamente una determinata gonotropina stimolazione in particolar modo dell'LH nel nostro caso realmente nei trials clinici sta producendo un qualcosa di interessante riproducibile valido dal punto di vista scientifico quali sono gli indicatori che ci fanno capire questo farò un passo indietro allacciandomi brevemente a qualcosa che ha messo in evidenza Livio cioè perché dovremmo considerare la possibilità di utilizzare un'attività LH nella popolazione generale e in specifici sottogruppi di pazienti a bassa prognosi e poi andremo a quello che abbiamo in questo momento in letteratura parto dal primo punto rapidamente e mi aggancio a delle riflessioni che proprio stamattina condividevo con Alberto Vaiarelli che sono quelle relative al modo in cui noi oggi interpretiamo i risultati in letteratura in relazione alla stimolazione ovarica controllata siamo nel periodo della medicina basata sulle evidenze dove viene attribuito un certo valore all'approccio meta-analitico non entro nel merito cerco semplicemente di darvi un esempio di come oggi si ragiona guardate abbiamo una meta-analisi con 36 trials non sono pochi per un totale di oltre 8.000 osservazioni sono bei numeri relativi al confronto diretto tra monoterapia con FSH e associazione di FSH e dell'EH ricombinante in questo caso quindi un bel cumulo di informazioni che cosa vogliamo noi noi vogliamo sapere qual è l'impatto della terapia sul life birth rate perché oggi è ritenuto l'end point che ci fa prendere decisioni ma poi quando andiamo a leggere nello specifico questa bella meta-analisi vediamo che il life birth rate è riportato soltanto in meno di 500 cicli cioè noi abbiamo un patrimonio di oltre 8.000 cicli e ci attacchiamo con tutte le nostre forze a un qualcosa che viene riportato in 500 ma lasciamo stare l'aspetto quantitativo attenzione andiamo nel merito qual è la conclusione è ovvia non c'è sufficiente evidenza per dire che questo approccio cioè l'attività LH cambi qualcosa ma non bisogna confondere come spesso accade il non c'è sufficiente evidenza con il c'è evidenza che qualcosa non funzioni e questa è un po' la battaglia che abbiamo fatto anche nel momento della stesura delle importantissime linee guida dell'escere nel senso che non possiamo scrivere che una cosa non è raccomandata perché non raccomandato sembra che io stia dando qualcosa che già so che non funziona non c'è evidenza e guardate anche un'altra cosa l'I-Square è un sistema attraverso il quale un parametro noi andiamo a verificare l'eterogeneità nelle meta-analisi ma attenzione non l'eterogeneità dei gruppi perché l'eterogeneità dei gruppi in IVF secondo me non è gestibile a nessun modello statistico l'eterogeneità dei risultati e vedete come questo dato sul life birth rate è riportato sostanzialmente in quattro studi con un'enorme etogeneità tra i risultati che riflette un'eterogeneità tra i gruppi perché se andiamo a vedere un po' meglio nello specifico in chi è riportato il dato vediamo che sono quattro studi eseguiti in quattro popolazioni completamente differenti quindi stiamo mischiando probabilmente le mele con le arance stiamo paragonando cose non paragonabili con numeri veramente irrisori facciamo un passo indietro e vediamo cosa succede nella stessa meta-analisi nella stessa meta-analisi viene riportata un'informazione sull'ongoing pregnancy rate lasciamo stare la terminologia cosa si intende in questo studio rispetto a un altro però siamo almeno alla visualizzazione di una camera o addirittura in alcuni studi di un battito per la definizione dell'ongoing due dati il primo abbiamo una dimensione campionaria nella stessa meta-analisi molto più ampia cioè abbiamo osservazioni in oltre 3.000 cicli rispetto a 500 già è qualcosa in più e fermandoci all'ongoing pregnancy rate notiamo che fin anche nella popolazione generale l'aggiunta di LH ha determinato un incremento di questo parametro con un'eterogenità tra i risultati molto più bassi perché ovvio che più aumentiamo la dimensione campionaria più le popolazioni si rendono spontaneamente omogenee quindi i confounder vengono un po' più abbattuti quindi sostanzialmente noi questo dato non lo vediamo non è sufficiente a una raccomandazione non può essere preso in considerazione perché in questo momento solo il life birth rate ci può dire qualcosa ma attenzione il life birth rate è distanziato di 8 mesi 9 mesi dalla stimolazione ovarica controllata accadono tante cose e non ci sono dati viene riportato poco ed è faticoso se non impossibile fare degli studi che abbiano realmente il life birth rate come end point se qualcuno di voi ama giocare un po' con la statistica può provare a fare una power analysis con i dati disponibili e scoprirà che in un solo centro per avere dei dati su life birth rate ma su qualsiasi stimolazione ovarica confrontata con una controparte saranno indispensabili da un minimo di 1000 a un massimo di 5000 pazienti per gruppo nelle pazienti a bassa prognosi quindi veramente non è alla portata mentre l'oncone pregnancy rate è veramente molto vicino alla stimolazione ovarica controllata quindi ci dà anche una stimola rappresentazione di come sta andando il nostro centro ed è anche importante che è molto vicino numericamente al life birth rate perché gli aborti dopo la dodicesima settimana sono veramente in una percentuale minima quindi io penso che la letteratura vada vista anche in funzione di questi end point che possiamo definire surrogati secondari ma che secondo me sono indicators of performance non assolutamente da trascurare questa è la meta-analisi che Livio presentava prima vedete questo lavoro l'abbiamo fatto cercando di includere tutti gli studi abbiamo osservazioni in oltre 5.000 cicli e quello che diceva Livio è vero vedete nel senso che sulla sinistra abbiamo gli end points quindi messi in ordine cronologico e vedete come muovendoci dalla monoterapia con FSH a praticamente un'associazione FSH e LH con la monoterapia con FSH tendiamo ad avere qualche uscita in più vedete però quando ci muoviamo verso gli indicatori di successo di IVF noi qua arriviamo al pregnancy vedete che il baricentro si sposta un po' più verso la quota LH verso a favore dell'associazione FSH e LH ripeto tutto questo sui grossi numeri attenzione questo non significa che l'LH in alcuni specifici sottogruppi di pazienti non possa determinare un aumento del reclutamento ci arriviamo a breve ma nella popolazione generale dove non ci sono magari problemi di reclutamento di crescita follicolare iniziale l'effetto LH sembra essere più di questo tipo cerco di andare velocemente al secondo punto che è quello diciamo che dobbiamo considerare per comprendere perché può avere un senso in almeno alcuni sottogruppi di pazienti un'attività LH sono forse dieci anni che presento questa diapositiva è quasi un fatto scaramantico ma secondo me è sempre un punto di partenza per capire cosa c'è di nuovo questo è il classico modello le due gonotropine le due cellule l'LH come diceva Livio che continuamente lavora nella tega interna tutti gli stadi di sviluppo follicolare tranne forse nei follicoli primordiali ovviamente e che induce una quota androgenica soprattutto di delta 4 androgeni o in un preciso equilibrio tra delta 4 e delta 5 gli androgeni diffondono verso la granulosa nella granulosa per l'attività dell'aromatasi vengono convertiti in estradiolo quindi quando gli estrogeni sono nella finestra giusta quando gli androgeni chiedo scusa sono nella finestra giusta c'è anche un'adeguata steroidogenesi che riguarda sostanzialmente l'estradiolo gli androgeni per essere nella finestra giusta devono partire da una quota adeguata di attività LH nel sistema però gli estrogeni restituiscono il piacere perché quando a un certo punto raggiungono un certo livello nel microclima nel microambiente follicolare sono gli estrogeni stessi appunto a indurre l'espressione di recettori dell'LH nella granulosa perché questo è il dato fondamentale che quando i follicoli raggiungono non sappiamo precisamente quale diametro ma quando raggiungono probabilmente gli 8-10 mm anche la granulosa incomincia a esprimere recettori per l'LH attenzione la slide che il DIVIO ha presentato prima ci ha fatto vedere che la granulosa non è un sistema competente per produrre androgeni quindi se la granulosa esprime recettori dell'LH con tanto anticipo rispetto all'ovoluzione vuol dire che l'LH deve fare qualcosa di diverso nella granulosa rispetto all'induzione e alla produzione di androgeni e quello che sappiamo è che l'LH converge questa è una rappresentazione un po' schematica a livello post-recettoriale quindi a livello trasduzionale in pathway che sono molto simili a quelli dell'FSH cioè le due gonotropine sono in grado di agire in modo sinergico non solo per convergenza di pathway trasduzionali ma anche per dimerizzazione dei recettori ci sono dei studi bellissimi di Ilpo Tanemi fatti una quindicina di anni fa che dimostrano in maniera molto chiara questa dimerizzazione cioè nella teca agisce solo l'LH è un sistema LH dipendente la granulosa da un certo momento in poi può rispondere in maniera quasi intercambiabile all'FSH e all'LH con un'enorme flessibilità adattarsi a deficit dell'una o dell'altra gonotropina ovviamente entro certi limiti ci sono gli studi fatti tanti anni fa da Marco Filicoi che sono rimasti storici oggi riprodotti anche con l'LH ricombinante che dimostrano che nelle fasi finali della maturazione follicolare la crescita follicolare può essere anche dopo un priming di FSH anche sostenuto solo da attività LH almeno al punto di vista dell'asteroidogenesi e guardate che l'attività LH ed FSH nella granulosa nelle ultime fasi di sviluppo ovocitario determina è fondamentale perché l'ovocita negli ultimi 7-10 giorni prima dell'ovulazione ha degli incrementi volumetrici importanti ha accumuli di trascritti c'è tanta roba ci sono dei transcriptional loops che si attivano c'è tanta roba che accade nell'ovocita proprio in prossimità dell'ovulazione quindi che cosa cambia nell'ovocita in prossimità dell'ovulazione la quantità e l'attività di cellule della granulosa con cui si cimenta e la qualità e la quantità delle cellule della granulosa dipende dall'egonotropine come diceva Primo Livio l'attività anti-apoptotica dell'LH probabilmente in natura in quel momento c'è l'LH perché l'LH deve stabilire quanta in termini qualitativi e qualitativi quanta attività della granulosa debba esserci in quel determinato momento quindi sono cose che non mi stupiscono il pensare che un'attività dell'LH possa avere un impatto sulla qualità ovocitaria in sostanza in soldoni riassumendo e poi arrivo subito alle conclusioni della pratica clinica riassumendo quando noi ci poniamo il problema di leggere uno studio che è stato basato sulla somministrazione dell'LH lo vogliamo disegnare un trial lo vogliamo interpretare una meta-analisi dobbiamo capire quando è stato dato l'LH in che quantità perché se un'attività LH viene dato a monte della stimolazione ogni primi giorni di stimolazione sta agendo soprattutto su quel reclutamento legato alla finestra androgenica ottimale mi sta regolando l'espressione del recettore dell'FSH se io invece lo aggiungo in corso di stimolazione quando già ho follicoli che superano gli 8-10 mm probabilmente sto ottimizzando i patroi antiapoptotici sto muovendo qualcosa nella stereogenesi e sto aiutando l'FSH nella granulosa soprattutto nei casi in cui l'FSH magari funziona un pochettino peggio questi sono i quesiti che ponevo prima quindi mi piace sempre proporre questa immagine un tavolo pesante FSH e LH sono due giovanotti che lo trasportano da una stanza all'altra se sono tutte e due forti in buona salute lo sforzo è minimo e tutto va bene ma se uno dei due è debole per esempio ci sono dei polimorfismi famosi che riguardano il recettore dell'FSH probabilmente c'è bisogno di dare più FSH ma anche vero che almeno nella granulosa un'attività LH sicuramente aiuta ed è vero anche l'opposto con l'invecchiamento la quota androgenica si riduce l'impatto dei polimorfismi può essere più rilevante spingere più sull'FSH e associare contemporaneamente un'attività LH può fare la differenza questa è la classificazione Poseidon non mi soffermo vi dico solo una cosa che la differenza con altri sistemi di classificazione è che i gruppi 1 e 2 sono rappresentati da pazienti che hanno una buona riserva follicolare quindi pazienti che al momento della stimolazione fanno meno follicoli ovvero meno vociti di quelli attesi quindi sono inattese come risposte subottimali i gruppi 3 e 4 sono invece pazienti che partono già da una riserva follicolare bassa in cui l'evento risposta follicolare inadeguata è un evento atteso i gruppi 1 e 2 perché sono così interessanti perché sono pazienti che hanno buona riserva follicolare ma una resistenza all'attività delle gonotropine o almeno ai protocolli standard questo vi dico che per me è fondamentale per capire in questi ultimi 4 minuti che mi restano cosa abbiamo in termini di evidenza clinica se noi vogliamo vedere nelle pazienti a bassa prognosi se l'LH funziona nelle poor responders mettendoci dentro un po' di tutto come si fa nelle salsicce o nelle metanalisi perché come disse qualcuno le metanalisi sono un po' come le salsicce piacciono a tutti ma solo chi le ha fatte sa cosa ci ha messo dentro allora se vogliamo mettere tutto nel calderone pur risponde a dove ci va la 43enne con la riserva follicolare di Sestrosa non capiremo molto perché è difficile stratificare in sottogruppi ed è questo il motivo per cui abbiamo fatto un tentativo tanti di noi che si sono cimentati negli anni nel cercare di capire questa storia dell'LH abbiamo fatto un tentativo di stratificare un po' i dati in letteratura in un'ottica di verosimilianza che hanno dei clusters di studi studi fatte nelle hyper responders cioè nelle pazienti con resistenza ovaica alle gonotropine pur avendo una buona riserva follicolare o studi fatti in pazienti con ridotta riserva follicolare o studi fatti semplicemente in base all'età cioè in donne al di sopra i 35 anni questo non ha la presunzione di determinare delle linee guida o delle raccomandazioni ma almeno di farci capire in che direzione perché questo dovrebbe essere l'obiettivo delle meta-analisi farci capire non far fare linee guida ma farci capire in che direzione va orientata la ricerca questo è il risultato e vedete che nelle hyper responders cioè nelle pazienti con buona riserva follicolare che hanno risposto poco a un precedente ciclo con FSH vedete che praticamente ripetendo il ciclo o aggiungendo LH in corso di stimolazione abbiamo un incremento che risulta dimensione campionaria minima è semplicemente un indirizzo in un incremento significativo dell'implantation e del clinical pregnancy rate ma il dato che mi interessa di più è quello che riguarda le pazienti al di sopra dei 35 anni sia quelle con riserva follicolare buona sia quelle con riserva follicolare ridotta mettendo insieme tutti gli studi guardate si osserva una cosa interessante che se prendiamo il segmento 35-39 anni c'è un high square definiamolo così impropriamente molto basso cioè tutti gli studi almeno su alcuni end points implantation rate e clinical pregnancy rate vanno tutti nella stessa direzione abbiamo tentato anche un approccio meta-analitico ripeto 300 osservazioni però sono studi molto omogenei tra di loro questo è importante e vedete che sul clinical pregnancy rate tra i 35 e i 39 anni l'impatto si vede se ci estendiamo ai 40 anni l'impatto si vede ancora ma se prendiamo gli studi nelle pazienti al di sopra dei 40 anni 41, 42, 43 anni non lo vediamo più l'effetto dell'LH ma questo sinceramente non mi stupisce perché tra i 35 e 39 anni abbiamo ancora nella maggior parte delle pazienti una riserva follicolare accettabile e abbiamo ancora tassi di aneuploidie elevati ma ragionevolmente contenuti dopo i 40 si abbatte la riserva follicolare aumentano le aneuploidie e togliamoci dalla testa che qualche gonadotropina possa modificare i tassi di aneuploidie quindi io per vedere gli effetti di una qualsiasi gonadotropina in una donna in una popolazione di 42 anni 43 anni ho bisogno di 5.000 osservazioni per braccio non arriverò mai a questa informazione cioè l'escere non mi dirà mai perché non avrà mai il life birth rate c'è evidenza che funzioni in questa popolazione dei pazienti quindi secondo me il segmento statisticamente più interessante è quello tra i 35 e i 39 anni e lì stiamo cercando di capire con Alberto insomma un po' in un network di collaborazione storica stiamo cercando di capire dove agisce cioè se non è i tassi di aneuploidie eccetera se qualche variabile di embryo variability che noi possiamo misurare magari come percentuale numero di usciti maturi tassi di blastulazione cercare di capire perché la letteratura è abbastanza concorde in questo segmento di età io ho finito gli ultimi 46 secondi li potrei spendere per leggere le conclusioni che riassumo in due concetti fondamentali se vogliamo capire se l'LH funziona dobbiamo capire i presupposti fisio-endocrinologici e soffermarci soprattutto sui segmenti ben stratificati omogenei tra di loro secondo me i pazienti con discreta riserva ovaica tra i 35 e i 40 anni e pazienti ad ogni età che abbiano mostrato una resistenza ovaica alle gonotropine alla monoterapia con FSH in cicli precedenti questo è un ringraziamento a tutte le persone del mio dipartimento un po' più generiche finisco con 10 secondi di anticipo devo dire qualcosa ottimo grazie grazie Carlo apro il tempo per la discussione per alcune domande volevo porre una domanda a Livio Casarini prima di tutto grazie per le informazioni che sono veramente molto molto interessanti perché finalmente danno delle basi certe sul fatto che le HHCG intervengono in maniera diversa dal punto di vista biologico e molecolare volevo soltanto sapere una cosa voi avete lavorato su granulosa che deriva da cicli da pazienti stimolate allora un po' volevo capire questo aspetto perché la granulosa di cellule che derivano da follicoli stimolati vengono da un modello multidominante mentre il modello fisiologico è dominante cioè si analizzano cellule che hanno modificato il loro destino cioè le dossi sovrafisiologiche di FSH hanno recuperato dal cestino a follicoli che dovevano morire e hanno dato cellule che hanno una capacità di sopravvivenza derivata proprio da questo cambio di modello cioè le cellule della granulosa di pazienti stimolate sono come quelle del topo sul modello multidominante allora mi chiedo quello che si vede su questo si vede anche su cellule da follicolo dominante quindi su un ciclo spontaneo ci avete mai fatto analisi di comparazione tra questi due modelli completamente diversi grazie grazie per la domanda è molto bella in effetti il fatto che queste cellule siano prese innanzitutto dopo che è stata indotta la luteinizzazione fondamentalmente quindi contando poi i loro recettori sulla superficie cellulare ci sono mille volte i recettori dell'LH rispetto a quelli dell'FSH questo è sicuramente un limite un altro limite che attualmente non abbiamo ancora uno studio almeno da parte nostra fatto con cellule prelevate dal follicolo dominante è molto difficile ottenerle ovviamente questo è il limite ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando perché siamo in contatto con alcuni che potrebbero fornircele ma infatti te lo dico le informazioni oggi hanno raggiunto livelli di informazione molecolare davvero straordinari cose che dieci anni fa non avevamo idea cioè organizzare uno studio multicentrico in cui è possibile recuperare dai cicli spontanei delle cellule credo che serva a validare oppure a riflettere ancora meglio perché poi serve ai clinici per capire meglio come utilizzare queste molecole certo grazie sì diciamo che i nostri dati in genere sono sempre supportati da un modello in vitro che però non sono ovviamente le cellule di cui parliamo adesso questo per ora è il massimo livello che abbiamo raggiunto però come ho anticipato poco fa ci stiamo adoperando per ovviare il problema e rintracciare anche il tipo di campione che hai menzionato Andrea volevo farvi una domanda perché io non sono così convinto noi lo chiamiamo rescue dei follicoli che sarebbero andati in atresia ma perché rescue cioè chi l'ha detto che quello che sarebbe andato ovulazione è diverso cioè non poteva essere uno di quei cioè il concetto è noi andiamo a stimolare una corte di follicoli che in realtà solo se non l'avessimo stimolata non sarebbe cresciuta quindi non è che stava non crescendo e noi tac l'abbiamo salvata e quindi ha il respiro affannato per cui su questo cioè definirle diversi quei follicoli forse andrebbe dimostrato e forse il vivo è meglio dell'invitro che ovviamente non dà quel tipo di informazione certo senza altro abbiamo pubblicato però recentemente uno studio in cui diciamo ipotizziamo come possa avvenire la selezione follicolare sempre con dei modelli in vitro ovviamente quindi hanno tutti i limiti del caso però sembra che a livello della membrana cellulare i recettori del follicolo dominante e dei follicoli non dominanti interagiscono in maniera diversa con quelle dimerizzazioni che ha mostrato prima Carlo in particolare c'è un recettore copiato a proteina G per gli estrogeni chiamato GPER non è molto conosciuto perché in genere pensiamo agli estrogeni come fattori che agiscono su recettori nucleari che è vero però ci sono recettori aggiuntivi in grado di in pratica accoppiarsi al recettore dell'FSH e di deviarne il cell signaling verso segnali più proliferativi o meno proliferativi ho menzionato il recettore dell'FSH ma vale anche per tanti altri espressi sulla superficie di queste cellule e io credo che il segreto sia proprio lì ci sono diverse interazioni a livello della membrana cellulare che modulano il cell signaling in maniera differente sul follicolo dominante rispetto ai follicoli che vanno poi in atresia però ancora chiaramente non abbiamo studi clinici su questo sì sì io non voglio insistere però il problema è quando è che definiamo follicolo dominante cioè nasce così in quell'onda di follicoli c'è già il follicolo dominante cioè c'è già Andrea che cresce e domina e tutti gli altri stanno giù non penso non credo nemmeno di avere la risposta alla sua domanda non lo so anche perché per definizione il follicolo dominante lo si ha in un ciclo naturale vorrei dire Andrea io non vorrei equivocare io non ho detto che il modello in vitro sia migliore di quello in vivo assolutamente no voglio soltanto dire che sono due modelli completamente diversi perché là c'è un modello di co-dominanza quindi tutti i follicoli si muovono insieme ma nella specie umana dove invece è prevalso il sistema è più evoluto della dominanza singola cioè noi analizziamo due modelli che sono biologicamente diversi e questo è il concetto e che hanno e noi sappiamo che tutto quello che è biologicamente diverso sotto a tutta un'organizzazione molecolare diversa era solo questo l'attribuzione di più evoluto comunque è un'attribuzione che ci fa esprimere un giudizio più evoluto non lo sappiamo ma è così dal punto di vista riproduttivo l'evoluzione siamo monovulatori chi è più evoluto e questo viene considerato un meccanismo più evoluto di controllo rispetto alla multidominanza almeno così mi hanno insegnato vabbè Carlo tu hai qualcosa a dire a proposito della domanda non è mia diciamo mi piace ragionare per analogie e porre confondermi a un livello più alto diciamo così nel senso non parlavo della domanda in un'ottica teleologica io dovrei pensare che se la natura fa tanto sforzo a selezionarmi tra 10 15 o 1000 2000 elementi 180 giorni prima quel follicolo di gaff dovrei pensare che è quello che mi porta all'uscita migliore cosa che non mi sembra così come che mi verrebbe da pensare che se uno spermatozovi ne è selezionato tra 30 40 50 milioni ci stanno 30 40 50 milioni di roba inutile là dentro cioè nel senso faccio domande non so dare risposte ecco queste sono le mie prego Pablo ma ammesso che penso che one side don't fit all cioè l'idea che tutte possono essere stimolate con e che le gonotropine che somministri sono diverse le associazioni sono diverse ma stiamo ragionando che il DLAI risponde qualunque roba fai probabilmente chi se ne frega ma in questa specifica categoria che sono le pur vere oppure ancora meglio quelle che producono 4-9 che sia solo la tipologia di gonotropine e non agonista versus antagonista pillola versus primi con l'estrogeno dalla fase luteale che è probabilmente il periodo della fase luteale intermedia non del ciclo precedente che impedisce il picco di FSH su cui probabilmente la sincronizzazione del reclutamento è su quello abbiamo qualche notizia mi viene in mente uno dei più bei lavori di Anna Pia che è l'on protocol quello che ti dava le uova migliori nelle pur responde assolutamente anzi c'è anche un ritorno a questo concetto dopo un periodo in cui l'on protocol nelle pur responde erano stati quasi demonizzati adesso stanno sempre di più incominciando a strutturarsi c'è un dato incontrovertibile l'80% dei risultati in IVF forse lo fa il laboratorio così come il follicolo è la realtà che ha la migliore capacità adattativa cioè il follicolo si fa fare qualsiasi cosa ma trova nella maggior parte dei casi risorse per arrivare al suo programma biologico e quant'altro però anche è vero no 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 non ho concluduto è vero quello che dice Pabllo cioè però se tu vai a vedere i grossi numeri con tutti i limiti che ci sono anche gli approcci metatanitici alcune manipolazioni che noi facciamo hanno un impatto sui tassi di gravidanza quindi non bisogna sminuire io credo credo molto nell'idea che il follicolo si adatti meglio se cresce in un clima ormonale più stabile con meno frutti dei risponder proprio per il meccanismo di aiuto sulla selezione cioè escludendo i follicoli più piccoli che non espongono il recettore e quindi dandoci meno ovociti ma comunque un buon numero perché stiamo parlando di grossi numeri con un rapporto di estrogeni che ci dovrebbe dare teoricamente degli ovociti migliori insomma questo è un po' evrazionale si dobbiamo solo metterci un momentino d'accordo sul discorso di high responders cioè parliamo di pazienti a rischio di iper risposta complicanze o delle pazienti normo rispondenti della popolazione generale no proprio delle high responder che sono più a rischio di per stimolazione per estrogeni alti numero alto di ovociti cioè sull'aiuto diciamo sul meccanismo di selezione poi è logico che adesso si è portati più a differire quindi diciamo che il discorso però proprio riportando sulla qualità di quello che poi rispondendo in base ai livelli di evidenza noi non abbiamo evidenze chiare circa la possibilità che tranne che non ragioniamo su dosaggi molto alti di attività LH cioè un vero e proprio ceiling noi riusciamo ad avere se praticamente portiamo o l'LH o l'HCG a dosaggi più elevati rispetto a quelli che è molto più elevati rispetto a quelli che usiamo nella pratica clinica per quanto riguarda invece la pratica clinica noi lo possiamo mi piace e mi affascina l'idea che mettere un po' di sale nella minestra un'attività LH mi aiuti praticamente a selezionare meglio io penso che questo avvenga quindi ad abbattere un po' però questo non è misurato al momento in trials clinici quindi non posso dare una risposta basata sull'evidenza grazie Carlo grazie a tutti vi auguro un buon pranzo e ci vediamo tra un po' grazie a tutti grazie a tutti